Buongiorno, innanzitutto il buon sabato e consentitemi un ricordo per una persona che ci ha lasciati di regente, Paola Tomai, nostra corsista storica e ci ha anche aiutato in diverse occasioni grazie allo spirito di servizio e alla sua competenza. Tipo quest'anno quando abbiamo dovuto strutturare il corso e impostare la prima lezione ci ha dato una grossa mano nella scelta del relatore. Un affettuoso ricordo per Paola e un benvenuto invece alle due persone che ci aiuteranno nella lezione di oggi. La lezione di oggi ha come titolo la virtuosa resilienza, cooperare in tempo di crisi. Le persone che ci aiutano oggi sono Lodovica Maria Zane, un nuovo componente del nostro gruppo di lavoro, e il professor Leonardo Becchetti. Lodovica, come ho detto, è entrata a far parte del nostro gruppo di lavoro, siamo molto lieti, quindi la presentiamo, per chi non l'avesse conosciuta. Lodovica è laureata in filosofia alla cattolica e con un approfondimento presso l'Università di Ginevra. Ha conseguito il dottorato presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena e ha perfezionato il suo percorso accademico alla Normale Superiore di Parigi e all'Università Vita Salute dell'Estar Raffaele. È studiosa di fenomenologia tedesca e ha alcune docenze già realizzate in cattolica, all'Università di Bergamo, a Torino Crocetta presso la Facoltà di Teologia e allo studentato salesiano di nave in provincia di Boccia. Lodovica lavora per la postulazione generale salesiana. Per la postulazione lei redige le posizioni sulle virtù o il martirio e accompagna alcune delle inchieste di esame che vengono svolte dalla postulazione. E' anche autrice, autrice di diversi articoli, alcune monografie. Il tema ricorrente nei lavori e nell'approfondimento di Lodovica, che poi scrive anche per una rivista dinestrale della CEI, è fondamentalmente la valorizzazione e l'emersione delle virtù umane. Le virtù hanno un valore e servono anche gli strumenti per riconoscerlo. Quindi, Lodovica ci aiuta in questo dal punto di vista del suo impegno intellettuale. Salutiamo e ringraziamo veramente per aver accettato il nostro invito il professor Leonardo Bettetti, ordinario di economia politica a Roma Torbergata. ha conseguito un master professor London School of Economics e un dottorato a Oxford e alla Sapienza. Il professor Bettetti, oltre a dirigere un paio di corsi di specializzazione in diritto dell'economia e dell'investimento europeo, in sviluppo e cooperazione internazionale, ho detto in italiano perché non volevo cadere sull'inglese, che è stato attivo a lungo in un settore, in tante istituzioni che si occupano di una materia particolare come quella del rapporto fra etica ed economia. Non posso menzionare tutte, ma sicuramente la più importante è la presidenza per nove anni del Comitato Etico di Banca Etica. e successivamente il professore è passato al Comitato Etico di una società etica SGR che si occupa dei fondi di investimento in Italia e in Europa. E, peraltro, membro del Comitato Preparatorio delle Settimane Sociali dei Cattori. L'impegno del professore come intellettuale del pensiero economico, come avete già capito, verte molto sui rapporti fra etica ed economia e, a questo proposito, è autore anche di altre numerose pubblicazioni precedenti a quella di oggi. Quella di oggi, l'economia civile e sviluppo sostenibile arriva, diciamo, al momento, scusate, dopo tante altre pubblicazioni di questo genere, ci ha colpito particolarmente, nello scorrere la sua bibliografia, Dio e Mammona, il dialogo tra un economista e un biblista su economia etica e mercato. Diciamo che è un lavoro che, per le caratteristiche dei nostri corsi, potrebbe essere interessante andare a ripescare, ma sicuramente anche con il professor Zamagni, con Lugino Bruni. Zamagni e Bruni sono coautori del libro di oggi. Il professor Becchetti ha lavorato tanto sull'economia civile, proprio su questo rapporto. dell'economia etica e su come l'economia possa essere, diciamo, fondamentalmente istituente attraverso la società civile. Questa lezione, dicevo, arriva al punto in cui noi volgiamo verso la seconda fase del corso. Auspicabilmente va già questa seconda fase verso il corso del prossimo anno, che vorremmo magari più incentrato sulla persona umana, ma questo poi lo valuteremo. Sicuramente più incentrato sulla persona umana è questa seconda fase del nostro corso. Oggi partiamo con questo lavoro che arriva e non è nuovo per noi come tema. noi, lo ricordavo prima, già dal primo corso di formazione della politica organizzata nell'anno nel 2000, abbiamo cominciato a tessere le fila di un discorso che parte dal riconoscimento dell'insufficienza del mercato e della società liberale nei tempi di oggi, cioè occidentali, evidentemente parliamo di questo, e tutto il discorso sull'economia civile, sulla valorizzazione del ruolo delle persone e della società dentro all'economia. Per noi è, ha sempre avuto come un filo conduttore attraverso i tanti autori che abbiamo ospitato, lo stesso Luigino Bruno Bruni, Luciano Berlino per un altro verso, Mauro Magatti che tante volte ci ha aiutato fino all'ultimo suo presenza nel corso del 2017-18. Ecco, questo tema è per noi centrale e che serve a declinare in maniera positiva, non possiamo esimerci dal tentare di dare delle proposte, quel riconoscimento iniziale, fatto già nel 2000, come dicevo, con il riconoscimento dell'insufficienza del mercato a regolare le nostre vite. E un altro piccolo, piccola notazione, questo affermare che le persone, che la società civile ha un ruolo anche dentro l'economia è un ruolo fondamentale, un ruolo istituente potrebbe anche dire, corrisponde anche a un altro aspetto che io lancio lì come una provocazione, è una richiesta di libertà, una richiesta che gli esseri umani fanno ai sistemi, ai grandi sistemi, incluso quello economico, di essere riconosciuti come persone e che il loro ruolo, la capacità loro interattiva di fondare nuove esperienze civili, sociali, politiche, anche attraverso l'economia venga riconosciuta. Quindi l'affermazione che, come ho detto, in tanti anni abbiamo visto grazie ai lavori del professor Becchetti, che potete andare a rileggere nella sua bibliografia, ma in tutte le lezioni che abbiamo fatto su questo tema, riconoscere questo ruolo delle persone equivale anche ad affermare l'importanza di esperienze didattiche e formative del tipo questo, cioè prendere consapevolezza che ci può non essere dominati dalle dinamiche trans-nazionali, per ricordare uno dei corsi precedenti, si può partecipare e dire la nostra senza pretendere di rivoluzionare il mondo, ma sicuramente cambiandolo in maniera molto importante. Detto queste parole, io non potevo dire altro che la lezione di oggi già promette molto di suo grazie ai nostri due docenti, quindi lascio la parola adesso all'Odovita Maria Zanet per l'introduzione tematica e successivamente si dipanerà a lezione secondo la stagetta conformata. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie, un benvenuto anche da parte mia ai corsisti, al professor Becchetti. È stato possibile confrontarsi, seppur da remoto, un po' in vista di questo incontro e credo che, come già precisava Luca, la sua presenza oggi sia davvero preziosa e si inserisca davvero bene nel contesto di questo corso di formazione alla politica 2020-2021, organizzato appunto come su due livelli. Un primo livello che guarda ad applicazioni molto concrete, si è cominciati con la scuola, con l'istruzione, si è proseguito con lavoro, ci si è soffermati sulla sanità, sulla salute, su quelle che sono condizioni di benessere della persona che occuperanno le tappe poi successive del corso. Dall'altra parte questo interesse direi preponderante, fondativo alla persona umana, al tutto della persona, da un punto di vista etico, psicologico, sempre la persona in relazione. Da questo punto di vista davvero preziosa, ripeto, la presenza del professor Becchetti che lavora, io credo, all'intreccio tra queste due dimensioni, anzitutto con alcune applicazioni di grande concretezza, oggi si parlerà di bioeconomia, si parlerà di lavoro, di lavoro da remoto, forse ecco anche di una sua testimonianza personale di quelle condizioni che rendono il lavoro da remoto davvero smart, liberando tempo, energie, possibilità per altro. Tuttavia il professor Becchetti e con lui la sua scuola di pensiero e i suoi collaboratori guardano sempre al ruolo della persona umana e questo emerge in modo direi fortissimo sin dalle prime righe del libro che fornisce l'occasione per il nostro incontro oggi, appunto Economia civile, sviluppo sostenibile, progettare, misurare un nuovo modello di benessere edito nel 2019 per Ecra. Questo libro non si apre dando delle risposte ma si apre ponendo domande affidate in parte anche a Stefano Gatti che firma l'introduzione. Si legge per esempio il cambiamento climatico e le diseguaglianze sociali hanno la medesima natura? Ecco la risposta è sì. Sono inevitabili? No. Nel momento in cui il fattore antropico viene rilevato. Automazione e digitalizzazione accelerano la trasformazione del lavoro, dei suoi contenuti e del suo significato. Sono fenomeni governabili? Ci si chiede e la risposta è sì. Quindi c'è questa caratteristica io credo tipica per quello che ho potuto capire dell'economia civile di avere il coraggio di dare nome alle situazioni in cui si è inserite prestando sempre grande attenzione al ruolo della persona umana e definendone le sue responsabilità, la capacità di inserirsi in questi contesti spesso ad alta complessità, di governarli e anche di pensarli in modo alternativo, in modo innovativo rispetto a come il pensiero dominante, un certo mainstream fa al momento attuale. Nell'ultimo anno credo che le domande poste nel 2019 non siano venute meno, ma la pandemia, ecco l'incombere della pandemia da Covid-19 rende questa pubblicazione che da un punto di vista bibliografico è ancora molto recente, meritevole di alcuni approfondimenti che oggi siamo molto lieti, anche il professor Becchetti ci possa aiutare a individuare e ad argomentare. Senz'altro accanto a queste domande se ne pongono di nuove, domande che hanno tanto a che fare proprio con questo essere in relazione della persona umana, con il fatto che se gli altri non sono al sicuro, non lo sono nemmeno io, sul fatto che i mezzi di comunicazione e il collegamento da remoto offre possibilità enormi, ma può mancare il convergere, diciamo, verso uno stare insieme reale che era poi anche la tradizione del circolo che si sta tentando di portare avanti con questi nuovi strumenti. Allora credo forse serva un passo indietro, se mi è consentito, proprio sulla genesi dell'economia civile. Prima del collegamento si parlava di questo andare indietro e di andare avanti per interpretare il nostro tempo, forti però della tradizione in cui affonda le radici. Nel testo il professor Becchetti fa un grandissimo salto in avanti quando in poche parole in fondo chiosa dicendo nuova human beings no party, se non ci sono gli altri non c'è la festa. E questo rapporto di me con gli altri c'è sin dall'origine dell'economia civile. È una parola, direi, nuova ma anche antica. È nuova perché ecco il professor Becchetti con Luigino Bruni, Stefano Zamani, che firmano insieme a lui il volume e tanti altri, la sta riproponendo, attualizzando nell'oggi. Però è anche una parola antica che ha il suo momento forte nel nel settecento italiano, nel settecento napoletano, meglio, di Antonio Genovesi, poi anche di giuristi come Dragonetti, Filangeri, ma al tempo stesso affonda le proprie radici nel pensiero francescano medievale, nella grande stagione, nella stagione nobile dell'umanesimo civile e procede poi anche al di fuori di quelle aree tipiche di Antonio Genovesi. Si parla di Verri, di Beccaria, si parla di Romagnosi fino al presidente Inaudi e al fondatore dell'economia aziendale Gino Zappa. Ecco, interessante il percorso di Antonio Genovesi che da persona che viene da studi filosofici rileva una preparazione che non parte come economica o almeno direttamente economica. Antonio Genovesi ha una preparazione teologica anche per vocazione personale e filosofica. In un periodo della vita è ospitato dagli agostiniani che evidentemente coimprimono in lui una svolta importante. Studia i classici, riconosce molto bene, conosce la retorica, esercita, credo per un breve periodo, l'avvocatura, ma poi è soprattutto un docente, anche un docente. Insegna metafisica, passa all'etica e approda poi all'economia quella cattedra, diciamo, di commercio meccanica, come si chiamava allora, che gli appunto ribattezza nel segno dell'economia civile. E questo credo dica già una straordinaria concretezza, questa volontà di porre, ecco, per così dire, le strutture portanti del reale, ma poi fuoriuscirne per andare a vedere come l'uomo agisce in contesto, per indagare un'etica, e renderla poi ancora più applicativa, ancora più reale, là dove gli uomini si incontrano, dove avvengono gli scambi, dove si generano i conflitti, con la parola autorevole dell'economia. E c'è anche qualcosa che associa, ma dissocia, pone forse in una così convergenza divergente Antonio Genovesi con altre figure che gli sono contemporanee, in particolare con gli ispiratori, fondatori della political economy, come Hume o Smith. Qui però c'è un divario, un divario grande che fino ad oggi non si è sanato, anzi forse si è andato sempre approfondendo. Senza dubbio, diciamo appunto, Smith è consapevole della natura, diciamo, prettamente intersoggettiva dei rapporti umani. Parla infatti del mutuo vantaggio entro le dinamiche di mercato. Tuttavia sottolinea anche come questo legame di mutuo vantaggio non debba troppo coinvolgere la sfera strettamente personale, questo sia un limite da preservare per la piena funzionalità, la piena efficienza ed efficacia degli scambi economici stessi. Antonio Genovesi e chi con lui si pone nel solco dell'economia civile non è d'accordo. Un passo molto bello del volume, rinviando tra l'altro in nota a un altro autore, dice così, la mutua assistenza di Genovesi non è solo il mutuo vantaggio di Smith. Per il mutuo vantaggio basta il contratto, ecco contratto in cui permangono tra l'altro fatti a simmetrie informative. Per la mutua assistenza occorre la filia e forse la gape. E qui io mi sono posta, lo confido, mi sono posta alcuni interrogativi, cioè entro che termini, in che limiti è legittimo, ma ecco al di là della legittimità è anche semplicemente fattibile parlare in un contesto economico di filia, quindi di amore, di amicizia, di amore di reciprocità e di agape, addirittura un amore oblativo, un amore donativo. L'economia civile sino ad oggi, credo ascolteremo molto il professor Becchetti su questo fra poco, insiste su parole ardue, ecco osa parole sfidanti. Io trovo appunto amicizia, ma trovo anche reciprocità, trovo gratuità. Che cosa significa questo? Io appunto me lo sono chiesto, cioè è un desiderio? È un auspicio etico? È uno sguardo di benevolenza sulla natura umana? Forse attingendo a quell'ottimismo dell'illuminismo settecentesco che in qualche modo intreccia la sua storia, quella di Genovesi, è un nuovo imperativo categorico che ci dice che dobbiamo essere buoni, che dobbiamo essere cooperanti? Oppure in un mondo che almeno in Occidente è ancora molto individualista, dice qualcosa di diverso? Ecco la risposta che a me pare di avere trovato, ma che enuncio qui in forma di ipotesi e la consegno al professore perché possa eventualmente aiutarmi, aiutarci a trovare risposta su questo, si trova credo in un ambito un po' diverso e tento di ricostruirla ripercorrendo le cattedre universitarie di Antonio Genovesi, ma stavolta al contrario, partendo quindi dall'economia, risalendo per così dire all'etica e sostando poi sulla metafisica. Antonio Genovesi, metafisico Antonio Genovesi che studia Aristotele, Agostino, Tommaso, non può dimenticare la socialità dell'uomo. Aristotele, celeberrima questa definizione, parla dell'uomo come di un animale razionale di natura sociale e se poi Boezio aggiunge le altrettanto celebri parole per grazia, consorte della natura divina, questa caratteristica tipicamente, prettamente relazionale emerge in Agostino che Antonio Genovesi conosceva, Agostino che addirittura argomenta l'intreccio e il gioco tra le facoltà umane nei termini dei rapporti intratrinitari e poi Tommaso, Tommaso che indaga le leggi, le leggi giuste e ingiuste, quelle che vanno obbedite, quelle che per una superiore giustizia provenendo da un'autorità ingiusta vanno invece disobbedite. Ecco, forse allora le parole che sulla scorta di Antonio Genovesi l'economia civile utilizza non sono parole etiche, perlomeno non sono solo parole etiche, può essere che siano parole ontologiche, cioè parole che dicono qualcosa che fa parte della natura umana, che riportino, che ci riportino alla vocazione originaria della persona umana, vocazione evidentemente talvolta disattesa, sminuita, contrastata, dimenticata, ma ciò non di meno, almeno in sottofondo, perdurante. E allora ecco per venire poi all'incontro di oggi che il professor Becchetti può spendere parole impegnative in questo testo, tra cui la parola felicità, vale a dire chi riconosce questa sua vocazione alla relazione, al bene comune, a una generatività in rapporto con gli altri, può davvero originare qualcosa e ricevere dagli altri qualcosa di valido, di vero, di pieno. Gli altri rischierebbero di condannarsi a una qualche forma di sterilità. E vorrei allora concludere questa prima parte della mia introduzione, richiamando due concetti molto cari all'economia civile e anche alle pagine che hanno fornito spunto a questo incontro. Il concetto dei beni relazionali e quello dei beni di stimolo, qui si attinge nel testo facendo riferimento a un altro autore che è Tibor Citoschi. Che cosa sono i beni relazionali? Qui, ecco, se Leonardo Becchetti me lo permette, oserei dire che il professore è addirittura estremo, tale è la sua esplicitezza. Argomenta indicativamente così il testo di economia civile. Anzitutto i beni relazionali non sono altre cose, non sono per esempio i beni privati, per loro natura rivali ed escludibili. Va da sé che se qualcosa è mio o voglio che sia solo mio, nascerà una competizione con altri che lo vogliono acquisire per sé. Non sono beni pubblici, che per la parola stessa hanno da essere non rivali e non escludibili, ma i beni relazionali non sono nemmeno i semplici beni comuni, ovvero beni rivali ma non escludibili. Accade nel caso dei beni relazionali qualcosa di particolare che nascono nell'interazione con gli altri esseri umani. Non solo l'incontro è il luogo dove fare esperienza di questi beni relazionali, ma cito, è una sorta di mezzo di produzione del bene relazionale stesso. Nel bene relazionale consumo, produzione e investimento coincidono. Sono quindi come dei beni insieme che non nascono però da un indistinto collettivo, ma presuppongono, esigono un accordo di volontà, obiettivo ambizioso, necessario ma fragilissimo, che chiede una cura, una relazione, un investimento di tempo ed è sempre esposto al rischio di fallire. Nel 2019 il professor Becchetti, usando una parola che oggi in contesto pandemico ha acquisito un significato completamente diverso, scriveva così che i beni relazionali sono qualcosa in più di non rivali, sono addirittura antivirali, sono beni che ti proteggono, che ti guariscono e aggiungeva di shock da beni relazionali si può anche morire, direi se non si può morire forse ci si può senz'altro spegnere. E allora qui concludo citando l'altro concetto che è quello di beni di stimolo. Sono beni che esigono un investimento previo di tempo, di energie, di conoscenze, l'umiltà di scegliersi dei maestri che insegnino qualcosa. Se il bene di comfort è il bene che è immediatamente accessibile e che io posso usare, posso strumentalizzare, di cui posso disporre nell'immediato, ecco i beni di stimolo richiedono di deferire, di demandare o di sospendere addirittura la gratificazione immediata. Ecco ci obbligano forse a essere un po' meno schinneriani, a fuoriuscire da questo meccanismo che a me funziona sempre molto bene del comportamentismo operante, del condizionamento operante, della gratifica immediata. E di fatto riguardano la cultura, la conoscenza nel senso più ampio del termine, l'informazione, tutto quello che si crea con altri e che comporta l'acquisizione di abilità complesse. Allora ecco io so che poi nella seconda parte dell'incontro ci sarà l'occasione di attuare degli affondi molto specifici su alcuni ambiti di cui il professore si è occupato, ripeto l'ambito del lavoro ma anche l'ambito della bioeconomia, dell'intreccio un po' tra salute e ambiente. Però chiederei ora di aiutarci a comprendere quali sono questi beni relazionali e perché l'economia civile è una profezia su questo, soprattutto in quel contesto diciamo con il Covid-19 come è stato intitolato questo corso di formazione alla politica che sta cambiando le nostre vite però ci chiede nella misura del possibile non tanto di subire, non solo di subire ma di diventarne protagonisti consapevoli. Grazie. Grazie Rodovica, pretengo un attimo per una notazione di servizio purtroppo nelle lezioni online non disponiamo del banchetto che avremo all'ingresso, quindi tutto il materiale cartaceo a parte il libro, economia civile, sviluppo sostenibile, progettare e misurare il nuovo modello di benessere e da reperire purtroppo di vostra iniziativa, edito da ECRA nel 2019 così come da ECRA e il lavoro diciamo precedente taccuino di economia civile. L'introduzione di Rodovica invece anche quella abitualmente era disponibile la caricheremo sulla giacca. Mi lascio la parola professore Bertone. Grazie per questa bellissima introduzione Luca e Ludovica per queste belle parole. Diciamo io riparto subito da una cosa che tu hai detto e direi che l'economia civile non è una teoria, è una strategia di azione civile e politica che abbiamo cominciato a sperimentare ormai da un decennio e che speriamo stia producendo dei risultati. La stiamo sperimentando con un approccio, con un metodo. Si parte da un metodo. Il metodo di sapere che il progresso civile parte da buone idee e che abbiamo bisogno di un approccio che è un po' quello del metodo scientifico, anche il metodo ignaziano se volete, cioè partire come se fossimo dei medici della società, partire dall'anatomia, quindi capire come funziona il sistema sociale, capire quali sono le patologie che oggi viviamo. Parlerò di quattro fondamentalmente, demografica, economica, quindi povertà e diseguaglianze, ambientale e povertà di senso del vivere. E poi avere una visione di dove voler portare la società e quali sono le cure. Quindi partiamo un po' da questo metodo, da questo approccio e andiamo avanti. Intanto dobbiamo capire che stiamo vivendo una fase molto particolare. Questo sistema economico ci ha portato, ha fatto delle cose eccezionali e ci ha portato dalla nascita di Cristo al 2020, da una situazione in cui avevamo una vita media di 24 anni, eravamo 230 milioni di persone, a una situazione in cui abbiamo 73 anni di vita media e siamo 7 miliardi e 8. Potete fare il giochino di calcolare quanti anni, quanti miliardi di anni in più oggi abbiamo a disposizione come stock di popolazione. Però facendo questo siamo arrivati a toccare i limiti del pianeta. Questo aumento enorme di popolazione ci ha portato sicuramente a ridotto la povertà, ma ci ha fatto capire una cosa che gli economisti all'inizio non si ponevano il problema. E cioè che le scelte economiche avvengono all'interno di una sfera più grande che è la biosfera e dell'atmosfera. Cioè tutto quello che noi facciamo ha conseguenze sull'ambiente naturale, che non è un ornamento, ma è un ecosistema che scambia con noi dei beni e dei servizi. Noi non possiamo vivere senza aria pulita, senza acqua pulita, senza fertilità dei suoli. Quindi ecco che l'economia cambia completamente perché oggi deve porsi il problema dell'interazione tra l'economia e la biosfera e l'ecosistema. E quindi il rifiuto diventa, dobbiamo imparare quello che è il collegamento tra capitale umano, capitale prodotto e capitale fisico, quindi macchinari e capitale naturale, l'ecosistema. E sappiamo che il nostro sistema finora ci ha fatto crescere nel capitale fisico, anche nel capitale umano, perché il livello di istruzione della popolazione è sicuramente aumentato, ma ha cominciato a deteriorare le risorse del capitale naturale. Questo ci ha portato, questo grafico dell'amico Parta Gasgupta, ci ha portato a una situazione molto molto difficile che stiamo vivendo in questo periodo. Guardate qui, trovate un orizzonte di 12.000 anni, no? L'età in... e vedete che è stato più o meno stabile fino... vedete che grafici impazziscono tutti negli ultimi verso destra, quindi impazzisce la concentrazione di CO2 nell'aria, il livello della temperatura, il livello dei ghiacci. Quindi oggi siamo di fronte a un'emergenza che io direi è ancora più grave di quella della pandemia, è l'emergenza della transizione ecologica. E noi dobbiamo annullare, cioè portare a zero entro il 2050, 52 miliardi di tonnellate di anidride carbonica che produciamo, 52 miliardi. Se uno dei grafici più importanti si chiama la Carbonomics Cost Curve, praticamente vi dice quanto costa all'economia eliminare la CO2. Vedete che all'inizio costa poco, le slide le vedete scorrere, perché qualche volta si... ok, vedete che fino a 20 miliardi costa poco e poi vedete che praticamente l'ultima parte della CO2 è praticamente ineliminabile alle tecnologie di oggi. Però vedete anche che le tecnologie stanno migliorando, la curva del 2019 era peggio di quella del 2020. Quindi io uso questa analogia, sta succedendo un po' quello che è successo per la pandemia. Noi abbiamo un grande male di fronte, non avevamo quando è scoppiata la pandemia le risposte tecnologiche, non avevamo i vaccini, però avevamo la fiducia che lavorando assieme come comunità globale avremmo trovato le risposte. E io credo che per il clima dovrebbe succedere la stessa cosa. Adesso poi in dettaglio sono stato per un anno consigliere del Ministro Costa, quindi potete farmi tutte le domande che volete su questa parte. Andiamo a vedere la seconda parte che è quella della povertà. Da dove nascono tutti i meccanismi di povertà e di diseguaglianze che abbiamo oggi nel sistema economico? Nascono da quella che io chiamo la corsa a ribasso, la race to the bottom, cioè tutte le aziende che massimizzano il loro profitto vanno a cercare quei paesi, a cercare di produrre e di localizzarsi in quei paesi dove il costo del lavoro, i costi ambientali e i costi fiscali sono più bassi possibili. E questo cosa produce? Produce una corsa, anche una concorrenza a ribasso tra parti dalle istituzioni che cercano di attrarre imprese e produce un differenziale enorme di rendimento, di salario lungo la scala del talento. I lavoratori altamente qualificati non hanno bisogno del sindacato e si difendono bene anche nell'economia globale. I lavoratori poco specializzati non sono più difesi dai sindacati perché fare una rivendicazione sindacale vuol dire magari rischiare di perdere l'azienda, l'azienda delocalizza eccetera e quindi soffrono sempre di più la concorrenza del lavoro a basso costo dei vari paesi. Questo produce una divaricazione dei salari per qualifiche e per competenze e quindi grosse disuguaglianze anche interne ai paesi e la disuguaglianza interna ai paesi che sta aumentando è non quella tra paesi. La pandemia come sappiamo ha prodotto un peggioramento importante della situazione economica, soprattutto sulla pandemia la pandemia ha colpito un'Italia che è divisa in tre. Cioè l'Italia tutelata, protetta, che è l'Italia dei dipendenti pubblici, se vogliamo, diciamo dei pensionati, l'Italia dei dipendenti delle grandi aziende. Questa Italia non ha perso il lavoro, magari ha ridotto anche più un po' i costi di trasporto e di spostamento, quindi addirittura può avere risparmiato. L'Italia assistita, che se riesce dal welfare, dal reddito di cittadinanza, eccetera, e poi c'è l'Italia di mezzo, quella che io chiamo l'Italia che rischia, che è quella che è stata colpita di più. Cioè l'Italia dei commercianti, delle piccole imprese, delle partite IVA. Guardate questo schema proprio uscito oggi sulla Voce, è impressionante, che è una radiografia del nostro sistema delle imprese divise in categorie e come sapete oggi c'è questo termine, si parla delle imprese zombie sono quelle che sono in questo momento tenute in vita dai ristori, tenute in vita dalla cassa integrazione, ma che nel momento in cui tutte queste misure palliative e antidolorifiche verranno sollevate, rischieranno di saltare in aria. Quindi il tema di oggi è cosa fare per queste diverse tassonomie imprese, su quali concentrare l'attenzione per intervenire, per salvare e quali invece non possono essere salvate. Ora, l'altro punto della democrazia, sappiamo che in Italia ci sono 250.000 persone di differenza tra nati e morti, quindi sappiamo che c'è un problema demografico molto molto grave nel Paese che dipende sia dalla mancanza di misure di welfare adatte per le giovani famiglie, sia dall'incertezza degli orizzonti futuri. Ma la quarta patologia su cui volevo soffermarmi e concentrarmi è quella della povertà di senso del vivere, perché questa è proprio la cosa, se volete, su cui insiste anche... Cioè, e questa è una cosa che forse solo la nostra sensibilità può consentire di ricogliere. Le società in cui viviamo sono società molto povere di senso. L'uomo è un cercatore di senso innanzitutto, prima che un massimizzatore di utilità. E la povertà di senso ha prodotto negli Stati Uniti una epidemia di morti per disperazione, il desperate crisis la chiamano gli americani, per cui addirittura il tasso di mortalità dei bianchi over 50 è aumentato nel corso dell'ultimo decennio. Quando, come potete immaginarvi, vedete che tutte le altre linee vanno a scendere, perché ovviamente il progresso medico sta allungando la vita, ovviamente prima del Covid, e qui avete questa situazione degli americani. Quindi esiste un vero e proprio rischio di povertà, di senso del vivere, soprattutto nella società americana, dove ovviamente i sistemi di prodotti e quindi la risposta che deve dare l'economia civile, dopo aver studiato l'anatomia e la patologia del sistema, è trovare delle risposte a questi quattro mali. Transizione ecologica, povertà e diseguaglianze, demografia e povertà di senso del vivere. Qual è la visione e poi andiamo alle cure. La visione, allora andiamo alla, ecco qui ho un accenno all'intervento post pandemia, no? Voi sapete che abbiamo il recovery plan, Next Generation EU, sapete che sono tantissimi soldi, sia quelli della programmazione europea per i prossimi anni che quelli della, proprio di Next Generation EU, e sappiamo che questi soldi devono avere un obiettivo di, sul clima e sulla digitalizzazione. Quello che io ho sostenuto più volte in questo periodo, lunedì ho un'audizione in Senato proprio sul PNRR, è che abbiamo bisogno di progetti capaci di fare strike, ecco lo dico così con questa immagine, cioè i progetti devono colpire cinque birilli contemporaneamente. L'anatomico più lavoro, meno rischio ambientale, meno rischio sanitario, più ricchezza di senso del vivere. Ecco il quinto birillo forse lo capiamo noi, ripeto, è molto importante, quindi non è solo un problema materialista, diciamo, ok? Ora andiamo a vedere la visione dell'economia civile. L'economia civile parte dalla felicità. L'uomo è un cercatore di senso, vuole una vita soddisfacente di senso, ok? Lo vedete la citazione di Genovesi, quindi l'uomo ha questa obbligazione insida di studiarsi a procacciare la propria felicità. Cosa intendo quanto dico che l'uomo è cercatore di senso? Intendo senso come significato, cioè la capacità di dare un significato, un'interpretazione alle cose che accadono durante la vita, ok? Questa è l'attività più importante. Pensate, possiamo pensare alla cultura come una gigantesca offerta di senso e di significato, no? Anche il teatro dell'assurdo di Beckett sta alla domanda di senso, ovviamente attraverso l'assurdo, ok? Quindi pensiamo al sistema economico e culturale come un gigantesco mondo di domande e di offerta di significato. L'uomo si fa delle domande di significato, l'offerta di significato avviene attraverso la cultura, le relazioni, la bellezza. E tutto il sistema economico che produce beni e servizi non fa altro che rispondere a questo. Pensate alle pubblicità delle automobili, no? Di concetti, di identità, ok? Ora, per questo discorso della felicità noi partiamo dal rapporto mondiale, reddito, salute, istruzione, libertà, iniziativa, assenza di corruzione, qualità della vita delle relazioni e gratuità. Queste le sette variabili fondamentali che spiegano tre quarti delle differenze di soddisfazione di vita tra paesi fondamentali nel mondo. Noi però dell'economia civile facciamo un salto in avanti, diciamo dietro queste sette variabili ce n'è una, componente principale, che le spiega un po' tutte quante. E qual è questa variabile? Si chiama generatività. Per spiegare cos'è la generatività usiamo Genovesi e John Stuart Mill. Cosa dice Genovesi? Dice quanto più si opera per interesse, tanto più, purché non si sia pazzi, si deve essere virtuosi. È legge dell'universo che non si può fare la nostra felicità senza fare quella degli altri. E John Stuart Mill gli fa eco quando dice sono felici solo quelli che si pongono obiettivi diversi dalla loro felicità personale, la felicità degli altri, il progresso dell'umanità, qualche arte occupazione perseguiti non come mezzi ma come fini ideali in se stessi. Aspirando a qualche altra cosa trovano la felicità lungo la strada. Quindi la felicità, la sottintesa come soddisfazione e ricchezza di senso di vita come effetto indiretto di una vita ben spesa, diciamo. Come spieghiamo ancora meglio questa generatività? La generatività, Eric Erickson, il famoso psicologo sociale, ha quattro verbi. Desiderare, far nascere, accompagnare, lasciare andare. Pensate a questi quattro verbi anche per risolvere oggi problemi di generatività sociale, economica, per far uscire i giovani dalla trappola dei net, no? Si parte da un desiderio, bisogna avere dei desideri. Io dico sempre agli insegnanti che la prima cosa è lavorare sui desideri dei ragazzi, far nascere, accompagnare, lasciare andare. Poi la generatività si declina attraverso tutta una serie di attività. Ora, altra cosa molto importante, non confondiamo la generatività con un confuso attivismo. La generatività non è il fare di donna prassete, per intenderci, per usare un'immagine manzoniana. Perché la generatività è fatta di relazioni, noi siamo esseri relazionali, quindi c'è una parte attiva ma che si alimenta di una parte passiva, che vuol dire porsi in atteggiamento di ascolto, di contemplazione e di relazione. Ok? Qui questo è molto importante, altrimenti sembra che è un attivismo. Ok? Ecco, noi la prima, la primo motto che mettiamo in pratica è quello di dire se generatività vuol dire felicità, unire le persone generative è il primo comandamento, è la prima cosa da fare. E quindi abbiamo creato due cose che si chiama, una è la scuola di economia civile, quindi è tutta la parte didattica, di docenza. E poi Next, che è una rete di 46 organizzazioni della società civile, dalle ACLI alle Cambiente, ai sindacati, a associazioni imprenditoriali, che lavorano sul campo sui temi della responsabilità sociale. E adesso vedremo un pochino. Ora, in cosa consiste questa economia diversa? Quattro cose fondamentali. Vedete, a sinistra è il vecchio paradigma, a destra è il nuovo. Primo, un modo diverso di vedere la persona. La persona è cercatore di senso, è maestra dell'arte delle relazioni, sa fare uno più uno uguale a tre. Nella vita puoi essere Cristiano Ronaldo, Messi, ma se giochi da solo perderai tutte le partite. La vita è un gioco di squadra, ma l'arte delle relazioni è molto difficile. Bisogna, è rischio, è rischiosa. La fiducia è rischio, vuol dire mettersi nelle mani di un altro senza garanzie. Quindi l'arte delle relazioni si deve insegnare. Oggi siamo degli analfabeti da questo punto di vista. Questa è una società del know-how, non di una società del know-why o del know-how-it. È una società che non insegna nulla sui fini e nulla sull'arte delle relazioni. Le imprese. Le imprese sono imprese ibride, non che massimizzano il profitto, ma che creano impatto. Sono imprenditori, oggi una nuova generazione di imprenditori più ambiziosi, che non guarda solo al profitto, ma anche all'impatto. Pensate, sconvolgente, noi questo lavoro l'abbiamo iniziato 23 anni fa con Banca Etica, con Etica SGR. Oggi il più grande fondo di investimento del mondo, BlackRock, per opera del suo fondatore CEO, Larry Fink, scrive ai CEO di tutte le grandi aziende del mondo che senza un sense of purpose, cioè senza un significato, senza responsabilità sociale, nessuna azienda può sopravvivere nel lungo periodo, perché finirà per perdere la legittimazione sociale ad operare da parte dei suoi stakeholder. Pensate alla storia dell'ILVA, no? Quindi le imprese, quindi lavoriamo per noi, lavoriamo per questo modello di imprese, imprese ibride, chiamatele B Corp, chiamatele cooperative sociali di tipo A e B, chiamatele come volete. Ieri ne avevamo mille per il percorso, come vi ho detto, di formazione dei quadri del terzo settore che è iniziato ieri. Il valore, chiaramente questo modello ha in mente un valore diverso da quello dell'economia tradizionale. Il valore, l'obiettivo non è aumentare il PIL, l'obiettivo è aumentare il benessere multidimensionale, che è lo stock dei beni spirituali, relazionali, economici e ambientali di cui una comunità può godere su un territorio. Ovviamente ricomprende anche la capacità di creare valore economico, che è un mezzo e non un fine. E l'obiettivo complesso, poi lo vedremo come lo declineremo. Quindi, lavorare sulle relazioni è uno dei punti fondamentali. Qual è il segreto che noi cerchiamo di portare avanti? Se ragioniamo da homo economicus, il dilemma della fiducia non riusciamo a risolverlo. Quindi non c'è la cooperazione. Dobbiamo usare un approccio diverso. Vedete questo che dice Hume quando fa questo racconto, che è il tipico atteggiamento dei due homines economici, due produttori, uno vicino all'altro. Uno dice, io oggi dovrei aiutare te, tu dovresti aiutare me domani, io non ti aiuto oggi, tu non mi aiuti domani perché non sono sicuro che tu poi mi aiuterai, non provo niente verso di te e alla fine perdiamo entrambi i raccolti. Quindi, questo è il tipico fallimento della cooperazione quando si ragiona da homo economicus. Il ragionamento dell'arte delle relazioni è completamente diverso. Parte da un dono, parte da un dono che non è un pacchetto regalo. Il dono vuol dire fare qualcosa in più di quello che gli altri si aspettano da te, qualcosa che non è nel mansionario. Il dono stimola la reciprocità, stimola la gratitudine e la reciprocità, crea relazioni. Le relazioni, a sua volta, di qualità, aumentano il costo opportunità di tradire la fiducia e quindi favoriscono la cooperazione. Questa è la logica su cui noi lavoriamo, molto semplice. L'ultimo punto della nostra visione è la politica economica. Allora, qui ho scritto, se volete andarvelo a vedere, è sul blog di Repubblica, adesso che sta questa dimissione di zingaretti, ho detto qui, non c'è né da dire ci sarà magari chi è contento, c'è un problema molto più serio del sistema politico italiano, che è quello della fiducia nell'uomo della provvidenza. Cioè l'Italia è un paese di leoni da tastiera che fanno fondamentalmente pettevolezze online, di media e di magistratura che vanno a cercare, è un sistema che tritura uomini della provvidenza. Gli italiani cercano continuamente un uomo che risolva i loro problemi perché li scaricano sull'uomo della provvidenza, li scaricano sul Cireneo. Dopo un po', quando si accorgono che ovviamente questo Cireneo non può risolvere problemi così complessi, cominciano a distruggerlo. Pensate quanti uomini della provvidenza abbiamo distrutto negli ultimi anni. È sbagliato il sistema, è un sistema a due dimensioni che non ha senso. Il sistema per risolvere i problemi è un sistema a quattro mani, cioè noi possiamo risolvere i problemi se ci alziamo dal divano e se mettiamo in modo un percorso che tiene assieme mercato, istituzioni, cittadinanza attiva, imprese responsabili. Questo è il nostro modo di lavorare. Ora, se volete il traguardo e l'orizzonte di tutta questa visione dell'economia civile è l'articolo 3 della Costituzione, che è una bellissima sintesi. Il Cireneo delle tre scuole, liberale e cattolica, perché mette assieme il concetto di bene comune, il concetto di pari opportunità, il concetto di liberazione da lacce e laccioli, cattolico, socialista e liberale, in un orizzonte di generatività. Creare le condizioni per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E questo è compito della Repubblica, non del Premier, della Repubblica. La Repubblica siamo noi, ok? Quindi non è di draghi il compito. Questa è la visione dell'economia civile. Vediamo che cosa abbiamo fatto in questi anni. Prima cosa, se noi crediamo in degli indicatori diversi, questi indicatori diversi li abbiamo cominciati a costruire. Quindi la generatività da concetto filosofico diventa indicatore. Gli indicatori sono fondamentali perché capite che sono la rotta che indica il cammino. Non è una roba dello statistico. Poi diciamo le istituzioni devono rispettare, seguire quelle metriche, quegli indicatori, capito? Quindi è molto importante per indicare la strada. Qual è? Cosa abbiamo fatto? Da due anni con il Festival dell'economia civile pubblichiamo la classifica della generatività delle province italiane. Come si costruisce la generatività? Lo slogan che noi usiamo è puoi avere reddito, saluto e istruzione, ma se passi la giornata sdraiato sul divano non sei felice. La felicità non ha a che fare con le tue dotazioni, ma con la capacità di mettersi. È espressività personale orientata ad un fine. E come misuriamo la generatività nei territori? C'è una generatività economica, start-up, brevetti, nuove imprese. C'è una generatività sociale, organizzazioni di terzo settore, donatori, volontari. C'è una generatività demografica, la fertilità. C'è una generatività delle generazioni, la longevità attiva e la riduzione dei giovani che non lavorano e ne studiano. Questo è il nostro modo di declinare il tema della generatività negli indicatori. Quindi l'idea è che questi indicatori dovrebbero affiancare quelli che già abbiamo e che sono il prodotto del lavoro che abbiamo fatto negli anni passati, che sono quelli del BES e degli SDGs. Ora andiamo a vedere un attimo qual è la leva fondamentale che noi oggi usiamo per, su cui abbiamo insistito moltissimo per mettere in modo questo sistema a quattro mani di politica economica, è far leva sul potere dei cittadini. I cittadini hanno un grande potere perché il mercato è fatto di domande e di offerta e noi siamo la domanda. Lo dice in modo brutale, lo dice in modo brutale un americano, vi faccio leggere questa frase, Samuel Moore Walton e dice c'è un solo boss, il consumatore, il cliente e questo boss può licenziare chiunque nell'azienda, dall'amministratore delegato in giù, semplicemente spendendo questi soldi da qualche altra parte. Ora ovviamente noi per voto col portafoglio non intendiamo il boicottaggio, cioè non in senso negativo, lo intendiamo in senso positivo, cioè generativo. Noi col voto col portafoglio scegliamo il meglio, scegliamo quelle aziende che sono leader nella capacità di creare valore economico, sociale e ambientale. Voto col portafoglio l'abbiamo inventato vent'anni fa ed oggi abbiamo, diciamo, una persona abbastanza influente, mi ha sorpreso anche a me, che parla di voto col portafoglio. Perché? D'anzitutto diciamo perché. Perché il voto politico non basta, il voto politico lo esorcitiamo una tantum, purtroppo anche le campagne elettorali sono condizionate molto dai finanziamenti delle lobbies. Con il voto col portafoglio noi possiamo votare ogni giorno per il mondo che vogliamo. Guardate cosa dice Bill Gates nel libro sul clima che è uscito da poco. È molto interessante. Lui dice che se vogliamo fare qualcosa di efficace, se vogliamo fare qualcosa di efficace, dobbiamo mandare un segnale, la cosa più importante è mandare un segnale al mercato, far capire che noi certi prodotti li vogliamo. Lui qui parla dell'ambiente, quindi l'auto elettrica, la pompa di calore, l'hamburger vegetale. C'è un mercato per certe cose. Questo lui dice dà un segnale alle aziende anche in direzione dell'innovazione. Quindi il voto col portafoglio diventa stimolo dell'innovazione delle imprese. Voto col portafoglio lo troviamo anche negli obiettivi del millennio delle Nazioni Unite, al goal 12, consumo e risparmio responsabile, vedete in basso a sinistra. Cosa abbiamo? Ovviamente mi direte voi, e ovviamente sono vent'anni che ne parliamo, quindi so benissimo quali sono gli ostacoli. Perché quest'utopia del voto col portafoglio che mi dice che da domani il mondo potrebbe cambiare, non si realizza. Non si realizza perché ci sono quattro ostacoli, cioè si realizza parzialmente. Vedremo anche delle belle realizzazioni. Quattro ostacoli. La consapevolezza dei cittadini. Molti non sono consapevoli di avere questo potere. L'informazione. Chi mi dà le informazioni sulla qualità delle aziende, eccetera. Il coordinamento delle scelte. Tante scelte devono essere coordinate per avere un impatto politico. E il prezzo ovviamente dei prodotti. Queste sono le quattro cose. Coordinamento l'avete visto qui. Sono i pesci piccoli che si coordinano e si muovono tutti insieme. Quindi questo è un po' il problema. Però questo vi fa anche capire che ci sono degli ambiti dove il voto col portafoglio ha fatto dei grandi progressi. E altri dove è stato molto più lento. Dov'è che ha fatto grandi progressi? Proprio in finanza. Perché in finanza chi vota sono i fondi di investimento. I fondi di investimento sono consapevoli, sono informati, comprano tutta l'informazione, i rating delle società, coordinano automaticamente le scelte dei risparmiatori. Quindi muovono i soldi di tanti risparmiatori e i rendimenti dei fondi etici non sono stati meno validi di quelli di fondi tradizionali. Quindi cosa è successo? Venti anni fa abbiamo fatto nascere Etica SGR che è stato il primo fondo di investimento che votava col portafoglio, il primo italiano. Cioè sceglieva i titoli delle aziende più sostenibili. Oggi a distanza di vent'anni sono arrivati tutti. Il 77% degli investitori istituzionali ha dichiarato in una recente indagine di PricewaterhouseCoopers che nei prossimi due anni voterà col portafoglio. Sceglierà solo le aziende più sostenibili. Anche per ridurre il rischio di esposizione, il cosiddetto rischio ISG. Cioè il rischio di esposizione ai fattori ambientali e sociali. Questa è un'altra bellissima immagine del voto col portafoglio. È l'immagine della Interfeit Center for Corporate Responsibility. È una rete di investitori etici creata da alcune suori americane che raccoglie più di cento miliardi di masse gestite e lo slogan di questa rete è fare leva sul potere degli investitori per catalizzare il cambiamento sociale. È uno slogan del voto col portafoglio. Vedete l'esempio. E ancora come vi dicevo, ve lo accennavo prima, il leader del più grande fondo di investimento dice che anche lui d'ora in poi voterà col portafoglio. Stiamo parlando di una persona che muove 6 mila miliardi di masse gestite di fondi. E lui dice without a sense of purpose nessuna impresa può stare sul mercato e quindi io che non devo mettere rischio ai soldi dei miei risparmiatori voterò col portafoglio. Ora vediamo invece cosa possiamo fare e cosa stiamo facendo sul fronte del consumo. Creare innanzitutto, vedete, qui vedete, sopra scorrono i nomi dei fondatori di Next e sotto avete la rete, diciamo la mappa delle buone pratiche. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo creato un questionario di autovalutazione per aiutare le aziende a fare il percorso verso la sostenibilità per confrontarsi con gli stakeholder. La ricchezza di questo non sono i dati ma il processo, il percorso, il percorso di partnership tra stakeholder, aziende e diciamo esperti. Sono più di 600 aziende che si sono registrate sul sito e continuano questo cammino sulla sostenibilità. Dopo abbiamo fatto un passo in più, abbiamo detto ma noi vogliamo fare qualcosa di ulteriore. Siamo diventati partner di queste organizzazioni creando Giosto. Cos'è Giosto? Giosto è il sito online del consumo sostenibile. Giosto è nato un anno fa e con Giosto noi siamo partner di circa 60 realtà del nostro paese, leader nella sostenibilità. La mia tavola è allietata ogni giorno da succhi, marmellate, sughi, delle migliori storie del nostro paese. Ecco, un consumo generativo. Dall'economia carceraria, penso a Made in Carcere, Sprigioniamo Sapori, Lazzarella a Napoli, Cotti in Fragranza in Sicilia. Cioè è quella iniziativa di lavoro in carcere che riducono del 70% la recidiva carceraria del nostro paese, creando anche dei risparmi per lo Stato. I prodotti della legalità, Libera Terra, Goel Bio, i prodotti del biologico italiano e quindi noi lavoriamo per loro, per aiutare a raggiungere, a conquistare mercati più ampi. Queste storie che sono storie tutte molto molto belle. Ok, chiaramente come potete immaginarvi non pensiamo di trasformare il mondo solo con la mano della cittadinanza attiva. Ci vuole la politica e quindi nasce un rapporto interessante con la politica, che è un rapporto di copro, laddove ovviamente siamo ascoltati, che è un rapporto di partreci, perché è un rapporto di coprogettazione. È un rapporto di coprogettazione e questo io lo sto realizzando in parte con alcuni e questo ci ha portato a formulare una serie di proposte per il paese, che come vedrete però non sono proposte volte all'idea di Stato imprenditore, lo Stato che gestisce in sé l'economia. Lo Stato per noi dell'economia civile deve essere piuttosto il levatore delle energie della società civile. Deve fare delle regole intelligenti che mettono in modo la generatività dei cittadini e delle imprese, il loro saper fare. Questo vi faccio vedere alcune cose, adesso qui salto un po' di questioni. Per esempio con il Ministero dell'Ambiente abbiamo lavorato fondamentalmente su una serie di iniziative che, per esempio, perché collegate col voto col portafoglio? Perché per esempio il 20% degli acquisti, voi sapete, sono acquisti pubblici. Quindi il tema del green procurement è fondamentale, ma lo Stato vota col portafoglio nelle regole di appalto? Capite che uno Stato che non vota col portafoglio si dà la zappa sui piedi, perché uno Stato che fa vincere un'azienda, che ha la sede alle isole Caiman e per quello magari fa il prezzo più basso, che sfrutta il lavoro o che non rispetta l'ambiente, vuol dire uno Stato che sta suggerendo implicitamente alle aziende di fare altrettanto. Quindi lo Stato deve essere il primo a votare col portafoglio e quindi i criteri ambientali e sociali minimi sono fondamentali per cambiare le cose. Poi ci sono tutta una serie di altre iniziative che abbiamo messo in campo, indicatori green e investimenti green, tecnologie incendi zero, l'economia circolare, il 110% volto a curare quel problema che vi dicevo prima del collegamento tra qualità dell'aria e morti. Sapete che ogni anno la qualità, la scarsa qualità dell'aria in Italia fa 200, ogni giorno scusate, fa 218 morti, più o meno il bilancio dei morti da Covid. Pensate che metà di questo problema si può risolvere con una cosa molto semplice, sostituendo le caldaie, perché la qualità dell'aria dipende dalle nostre caldaie e quindi questo è una proposta. Qui vedete la situazione, vedete che l'Italia, la pianura padana è una delle poche emergenze dell'Europa. I puntini rossi che sono i punti nei quali gli sforamenti dei 50 microgrammi per metro cubo sono per più di 100 giorni. Le comunità energetiche, che è una grande opportunità del futuro, vuol dire che oggi noi diventeremo tutti prosumer, produttori e consumatori di energia, quindi potremmo creare valore economico attraverso il mettersi assieme come condomini, come organizzazioni e diventare produttori di energia venduta e scambiata in rete. Vado rapidamente a alcune idee di welfare, ecco questo mi interessa concludere su questo. Ovviamente come economia civile abbiamo un'idea di welfare, abbiamo scritto una lettera con più di 100 organizzazioni al nuovo premier, prossima settimana incontreremo il ministro Orlando. L'idea è questa, ecco perché giustamente Ludovica mi chiedeva di stare sul tema della relazione. La relazione è fondamentale per i welfare. Quello che manca in questa società è il principio di fraternità, cioè se voi potete pensare a tutta la storia dello sviluppo del pensiero economico e sociale dell'Occidente come un derby tra eguaglianza e libertà. Un derby tra socialisti e liberali, Lib Lab. Ecco in questo derby manca la terza parola della rivoluzione francese che è la fraternità. Il teologo Pierangelo Sequeri diceva che la fraternità l'avevano chiusa in sacrestia, ma non ha senso. La fraternità non è una cosa da anime pie, la fraternità è il valore, il principio dell'arte delle relazioni che feconda la vita economica e sociale. E quindi questa cosa noi la applichiamo innanzitutto al welfare. Qual è la funzione di produzione del welfare? È fatta di riconoscimento, di relazione, di cura, di fraternità. Ha detto benissimo il sottosegretario Sileri, mi è piaciuto molto quella dichiarazione, gli anziani non sono una retta. L'idea del budget di salute, l'idea del budget educativo sono proprio questi. È la comunità che si prende carico di un problema e costruisce un progetto personalizzato per risolvere la situazione di quella persona. Quindi il budget di salute, tra l'altro adesso non entro nei dettagli, ma anche questo fa risparmiare lo Stato, perché tra l'altro il sistema delle rette è anche molto costoso. Bene, direi che non voglio... ci sono tante altre cose, se volete poi le dico anche dopo. Andiamo alla conclusione. Mi piace sempre concludere con queste... sempre questi quadri di Rob Gonsalves, che è grandissimo in questa sua capacità di usare... di usare... di forzare i significati, no? Delle cose. E quindi questa è la transizione ecologica per Rob Gonsalves. questo è il tema della qualità della vita di relazioni, no? Vedete che... dove le relazioni prendono forma e diciamo possiamo concludere con questa che è la più bella, appunto, con l'economia civile noi cerchiamo di dare una risposta per quanto possibile alla domanda degli esseri umani che sono cercatori di senso e di infinito. Grazie. Ecco, grazie professore di questo suo ricchissimo intervento. Mentre lei parlava, ecco, pensavo che essermi occupata un po' di storia della filosofia medievale mi ha aiutato nel trovarmi molto bene con la ricostruzione storica attuata nel testo da Stefano Zamani, ma necessiterei di tanto tempo per approfondire le slide che ora lei ha mostrato. Però ci interessava come circolo un affondo ancora più specifico su alcune questioni di cui lei si è occupato. Andando a prendere, ecco, preparando quest'incontro la carta di Firenze, per esempio, per l'economia civile, il futuro dopo il coronavirus, trovavo alcuni temi particolarmente significativi, non solo il valore del lavoro e delle persone, la biodiversità rispetto alle forme di impresa, l'educazione, l'inclusione sociale, l'educazione e la promozione umana e poi l'ambiente e la salute a cui lei ha già accennato, quei beni che rendono possibili in qualche modo gli altri beni, perché il potere essere vivi, essere in relazione, ecco, dischiude poi il campo a tanto altro. Io so che lei non solo si sta occupando di questo, ma ha dato anche una testimonianza personale circa le modifiche che hanno interessato il mondo del lavoro in questo contesto di pandemia, in particolare su un lavoro da remoto. Forse, ecco, è uno degli autori più ottimista, più possibilista circa le caratteristiche smart di questo nostro lavorare da remoto. Allora, in questa seconda delle tre parti in cui è stato pensato l'incontro di oggi, le chiederei eventualmente di spendere proprio una parola ulteriore, direi, sull'aspetto della salute e poi portarci questa testimonianza legata al lavoro e modalità smart con uno sguardo a chi, per le particolari condizioni ambientali o personali in cui si trova, potrebbe invece fare molta più fatica a viverlo come davvero realizzante, anche se in altro modo, per la propria persona. Grazie. Molto volentieri, sono due temi di cui mi piace molto parlare. Allora, sul rapporto tra salute e ambiente, vi dico subito questo, insomma, che oggi lo trovate anche sul sito, sul blog di Repubblica, sono usciti più di 35 lavori. Sapete che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha coniugato un termine che si chiama One Health, cioè una sola salute, la salute del pianeta, la salute delle persone, la salute fisica. E in particolare questo tema delle interdipendenze, tutto è correlato, che è un tema molto caro a Papa Francesco, si è palesato proprio nel Covid. Voi sapete che prima del Covid esisteva una sterminata letteratura medica che spiegava come l'esposizione di lungo periodo alle polveri sottili rendesse più infiammabili i polmoni alveoli e quindi predisponesse alle malattie polmonari e respiratorie. Quindi io dico a chi è scandalizzato rispetto a quello che noi diciamo che non c'è nulla di nuovo da dimostrare, nel senso che il Covid è una malattia polmonare e respiratoria e quindi è evidente che in quelle aree dove il problema delle polvere è più grave i rischi per la salute sono maggiori. I dati sono impressionanti, pensate che il 40% dei morti della prima ondata vengono dalla Lombardia e quindi noi poi abbiamo dimostrato tutto questo con dati, abbiamo 6 milioni di dati giornalieri per ogni comune italiana, complessivi diciamo, che sono i dati comunali, dei livelli di polvere giorno per giorno, correlati poi con tutti gli altri fattori, ovviamente bisogna controllare per una serie di altre cose che sono i flussi migratori, scusate i flussi di pendolarismo, l'attività economica che ovviamente incitono la qualità dei sistemi sanitari regionali. Però questa cosa è molto forte, ripeto, quindi noi l'abbiamo spiegato, dimostrato, lo hanno fatto altri in altre parti del mondo, quindi ci sono studi sugli Stati Uniti, sull'Olanda, su altri paesi. E quindi questo è un punto molto importante che ci fa capire che dobbiamo avere questo approccio multidisciplinare, multidimensionale. Facevate anche un accenno al discorso relazioni salute, ma è un rapporto strettissimo. Ci sono i famosi studi sulle morti per le ondate di calore a Chicago e a Torino del passato, che dimostrano che c'è una mortalità molto maggiore degli anglosassoni rispetto agli ispanici. Perché? Perché gli anglosassoni vivono da soli nei piani più alti dei palazzi, cioè la qualità... e ci sono studi che dimostrano che la ricchezza di senso del vivere, o al contrario, che la povertà di senso del vivere è un fattore di mortalità. Quindi persone che... ma lo sappiamo, cioè se una persona dice ma fondamentalmente che mi importa continuare a vivere, il rischio che poi sia male è molto alto. Quindi tutto è collegato. E perciò noi insistiamo molto su questo tema della ricchezza di senso. Perché la ricchezza di senso vuol dire è il vero benessere da cui parte tutto il benessere delle persone. Sul tema dello smart work, io sono ottimista in che senso. Tra l'altro se ne parlava anche oggi in un gruppo. Allora, noi abbiamo tre tipi di relazioni. Ci sono... questa relazione che stiamo facendo adesso è il secondo tipo, io la chiamo, cioè faccia a faccia ma a distanza. Cioè noi siamo collegati nello stesso istante di tempo ma siamo ognuno a casa propria. C'è poi la relazione chiamiamola WhatsApp. La relazione WhatsApp non è né faccia a faccia e né in presenza. Ognuno scrive quando vuole, ognuno risponde quando vuole. Siamo liberi sia nello spazio che nel tempo, ok? Con la relazione WhatsApp. Con la relazione, se io fossi venuto a fare la lezione da voi, era una relazione, diciamo tra virgolette, non libera né nello spazio né nel tempo, nel senso che era con presenza spaziale e temporale. Ora è evidente che nella relazione del terzo tipo, quella con presenza spaziale e temporale, la qualità delle relazioni è maggiore perché la comunicazione non verbale, eccetera, possiamo chiacchierare prima dell'incontro e tutto quanto. Però se pensate a quali sono i costi di tempo e di trasporto e di movimento per realizzare le relazioni del terzo tipo, ci rendiamo conto che il Covid ci ha fatto capire che molte delle relazioni che prima giocavamo sul terzo tipo le possiamo giocare sul secondo tipo. Faccio un esempio. Ma voi pensate che ancora la gente andrà da Roma a Milano andata al ritorno per fare una riunione? È una follia. Sei ore di treno sbattuti per andare a fare una riunione. Quando poi magari mettere assieme le agende è ancora più difficile perché devi ritrovare il giorno in cui tutti possono dedicare tutta quella giornata per fare quella riunione. Oggi noi siamo molto più ricchi. In un giorno possiamo fare quattro, cinque cose, ok? Quindi come sarà il mondo del futuro? Sarà, io dico, 20-80. 20% ritroveremo il gusto di fare qualcosa in presenza come molto importante in cui ci vogliamo vedere. 80% useremo i webinar. Non vi dico di quanto è aumentata, per esempio, la capacità di fare e di interagire a livello governativo, a livello di incontri di esperti internazionali. Capite bene che io apro il computer, mi collego con 50 persone da tutto il mondo e faccio un incontro, ok? Vi faccio un esempio. che adesso stiamo facendo come gruppo organizzatore del G20, in tutti i paesi del G20, per vedere se siamo accordati su quello che faremo, li stiamo facendo online. Non è che stiamo andando in Argentina, in Germania, in Inghilterra, ok? Quindi questo secondo me. Ora tutto questo richiede però anche di affrontare il nodo delle diseguaglianze. Dove stanno le diseguaglianze? Beh, è facile. Ci sono delle grandi diseguaglianze perché la qualità della vita in rete dipende dalla connessione, dipende dalla qualità dell'abitare. Se io sono una casa di una stanza con cinque figli, non è che possiamo fare tutti smart. Allora, una delle idee che sta uscendo fuori molto bella sono quelli degli smart hub di quartiere. Perché bisogna fare lo smart work a casa. Lo possiamo fare anche nel quartiere. Creiamo uno smart hub dove la gente si incontra, gente che lavora in posti diversi, si incontra, sta assieme, eccetera, e questo può essere un'alternativa al smart casalingo. Ecco, questo è un po', quindi ripeto, la pandemia che è stata una gigantesca esercitazione forzata che ci ha impedito le relazioni di terzo tipo, quella in presenza, ci ha fatto capire che possiamo essere molto più ricchi di tempo usando bene la rete. La ringrazio. Penso che molti dei temi affrontati potranno essere ripresi nel dibattito, si ricollegano ad alcuni incontri che ci sono stati al circolo d'ossetti, anche recentemente, proprio sul tema del lavoro. Ricordo anche un bel incontro l'anno scorso con Stefano Serafini che si interessava appunto dell'impatto sulla vita delle persone, delle condizioni urbanistiche in cui vivono. Però vorrei tornare, se possibile, per quest'ultima parte dell'incontro e aprire poi, attraverso la parola di Luca al dibattito, sul tema da cui in qualche modo si è partiti. vale a dire la natura dell'economia civile e la sua capacità di farsi strada oggi in quella massima concretezza di cui lei ci ha dato moltissime autorevoli esemplificazioni oggi. Leggendo qualcosa di questo ambito, senz'altro ritorna molto la Fratelli Tutti di Papa Francesco, tante parole, tante idee spese, nello spirito, per esempio, di regole economiche che non risultino solo efficaci per la crescita, ma coinvolgono uno sviluppo umano integrale. Allo stesso tempo, ascoltando queste sue parole, mi ricollego in parte a un altro scritto di Papa Francesco che è la Gaudetete Exsultate. E questo non solo perché, seppur parlando della santità, parla di una santità insieme, quindi in fondo sottolinea la straordinaria rilevanza, l'intrinseca necessità di legami di qualità, ma per quel passaggio in cui viene stigmatizzato l'errore, il rischio perlomeno, dell'ognosticismo e del pelagianesimo. L'ognosticismo, secondo il quale, in qualche modo, sapere di più autorizzerebbe ad agire al meglio, ma sappiamo che non è vero, non è purtroppo così. D'altra parte il pelagianesimo di chi ritenga che è una mera volontà forte, basti, per conseguire risultati, eppure questa è una volontà ferita che si trova ad agire con volontà altre, con intenzioni che noi non sempre possiamo controllare. Allora, come oggi, lei già prima ha anticipato almeno una parziale risposta, l'economia civile può convincere. Credo che questi rischi le siano estranei, perché è ben fondata, diciamo, anche nelle sue radici, su un volontarismo moderato che appunto intenziona l'oggetto tipico della volontà, che è il bene, anche nella forma del bene comune. Però mi sembra che sia pur sempre praticata da persone che oggi, ecco lei, anche rappresenta di fine preparazione culturale, e anche di allenata, diciamo, disponibilità di cuore a rilevare questi aspetti. Come davvero può agire in un contesto come quello attuale, in cui senz'altro i cambiamenti di questi ultimi mesi ci stanno obbligando a dare nome a una serie di cose, a cambiare strategie, ma forse con ancora un po' di individualismo, di società liquida, di fragilità, è presente. In altri termini, tornando proprio all'economia civile, come fare di questa casa, davvero una casa comune, e recuperare anche l'aggettivo civile nel suo senso più alto. Oggi si parla molto di valori, di conflitto di valori, di moltiplicazione di sistemi valoriali, anche contrapposti appunto ai confliggenti, ma forse non si deve tornare dai valori, per così dire, alle virtù, o meglio, dai valori come predicati ideali, predicati astratti, a uomini di valore, a persone di valore, che, ecco, incarnino questi valori in altrettante virtù, nelle corrispondenti virtù, e così facendoli rendano tangibili. Lei prima ha indicato alcune riflessioni che già andavano in questa direzione, come oggi l'economia civile risponde a questo, e leggendo io nella Carta di Firenze, che è un cantiere aperto, che tante sfide sono sempre all'ordine del giorno, mi permetto ecco di chiederle quali sono le sfide che, guardando al futuro, diciamo a un medio termine, lei vede come sempre più rilevanti entro il contesto di quello che ci ha già raccontato. Grazie. Bene, no, molto importante. Direi che la sfida è una sfida culturale e politica, che è esattamente quella di coinvolgere i cittadini su questa visione, che è una visione, perché è una visione difficile? Proprio perché è una visione orientata alla virtù. Quando parliamo di cittadinanza attiva, quando parliamo di generatività, noi stiamo chiedendo, come ho detto anche io esplicitamente, a tutti gli italiani di alzarsi dal divano e a dare il contributo, perché noi diciamo che in questo modo la vita diventa degna di essere vissuta. Ora, tutto questo non è facile, perché basta, io frequento molto i social media, perché ovviamente dobbiamo diffondere questo messaggio. E voi vedete che i social media in Italia sono passati da una prima fase terrificante contro cui abbiamo combattuto, che era quello della fabbrica di odio, ve la ricordate, no? Fino a un po' di tempo fa. Per fortuna l'abbiamo combattuto e l'abbiamo vinta. Ma adesso siamo in una fase due, del pettegolezzo. Cioè una fase in cui l'italiano, sempre in questa logica della delega, della delega all'uomo della provvidenza, cosa fa? Fa il tifoso, lui ha la bandierina, è tifoso di uno o dell'altro e quindi non c'è, capite che non c'è crescita, non c'è progresso, perché se io sono tifoso di A e A dice una cosa, quella cosa che ha detto A è buona a prescindere. Se B dice una cosa, io lo devo attaccare comunque. Quindi l'Italia dei tifosi, l'Italia delle bandierine, dei leoni da tassiera, non funziona. Non funziona. È un atteggiamento di passività che tra l'altro è, diciamo, impoverente per chi lo pratica, che è completamente diverso dalla logica dell'economia civile. Quindi ecco, passare dal riuscire a scuotere, diciamo, non le minoranze illuminate, ma una parte maggiore del paese, non è facile, non è facile, perché, tra virgolette, anche se quel modo di vivere è meno gratificante alla fine, da un certo punto di vista è più pigro, è più comodo, è un po' il discorso che facciamo prima dei beni di comfort e beni di stimolo. È un bene di comfort. La cittadinanza attiva è un bene di stimolo. Qualcuno mi chiedeva ad altre volte, diceva, perché se è così facile il discorso sulla felicità, perché poi la gente non è felice? Perché la felicità, io rispondo con tre parole, perché la felicità è faticosa. La felicità è faticosa e la gente non c'ha voglia di faticare. Quindi, questo è il punto. Allora, ripeto, la sfida, secondo me, oggi è proprio questa. È una sfida gigantesca, culturale e politica che noi stiamo combattendo su tanti fronti. La vedo ancora, cioè, il lavoro sui cittadini è quello veramente più difficile perché poi la massa dell'opinione pubblica è quello che produce questo sistema che abbiamo parlato dei leader della provvidenza è quella che produce poi scelte politiche che non ci soddisfano. Quindi, o cambiano i cittadini oppure continueremo a avere questo sistema. Bene, grazie professore. Grazie. Prego, Ludovico. Era solo un grazie. Va bene, grazie anche da parte mia per i tanti spunti che ci ha dato, alcuni dei quali mi sembrano di particolare pregio, di un po' una piccola distorsione dal punto di vista dell'affrontare questo genere di tematiche. Non per piacere, ma quantomeno per necessità, provare a, nella battaglia titanica a cui gigantesca, a cui parlava il professore, provare a mettere anche in termini economici, quindi quel passaggio sull'aumento del costo marginale nella interruzione del rapporto di fiducia mi pare fondamentale anche perché rende visibile quello che poi è un dato, diciamo, dell'esperienza che anche i giuristi come me conoscono, cioè fondamentalmente le vite umane, l'intera economia, ma anche il diritto si basano non sulla violazione del rapporto diciamo di fiducia o di realtà alle istituzioni, ma sul presupposto che le persone faranno fede a quello che hanno detto o al loro essere cittadini e i regolatori intervengono solo in seconda battuta. Rendere però visibile questo piccolo pezzo del discorso mi sembra molto utile anche per fare breccia dentro ad alcuni ambienti, diciamo, del mondo abituati a ragionare esclusivamente in temi di rappresentabile dal punto di vista numerico. Quindi grazie, grazie professore veramente per i tanti spunti che ci ha dato. Io veramente siamo inondati dalle domande e mi raccomando e senz'altro cerchiamo di dare spazio a tutti, sono nove per il momento, però dovete essere veramente sintetici due o tre minuti a testa in modo tale che poi il professore possa rispondere a tutti e anche ai nuovi. Dunque, cominciamo da Marco. Grazie Luca, cercherò di essere abbastanza sintetico. Volevo chiedere al professore una cosa che secondo me questa pandemia ci ha insegnato è il fatto che prima di questo di questo evento catastrofico noi avevamo un sistema economico con dei dogmi che erano considerati praticamente indiscutibili, no? Diciamo dal punto di vista dei media, dal punto di vista del dibattito. Mi viene in mente il concetto di benessere. Noi abbiamo sempre inteso un benessere come una ricchezza personale, come l'accumulo di ricchezze, no? Come unico come unico obiettivo. Anche in relazione all'ambiente se hai detto una cosa così, sì, molti dicono va bene l'ambiente, però noi non possiamo in nome dell'ambiente danneggiare il benessere economico delle persone. La pandemia ci insegna che il benessere può essere cambiato, no? Il senso del benessere. Possiamo intendere un benessere unicamente di arricchimento personale oppure possiamo intendere un benessere economico in cui l'arricchimento personale è importantissimo ma che ha una grande sensibilità anche nei confronti dell'ambiente e della salute delle persone. Mentre lei parlava mi è venuto in mente Pigou che parlava di esternalità negativa, del fatto che diceva sì, se noi cresciamo dell'8-9% del PIL una nazione, ok, ma se poi quest'8-9% si traduce in un inquinamento ambientale fortissimo, in un aumento dei tumori, dello stress delle persone, allora forse c'è qualcosa che non va. Ecco, quindi anche, secondo me, volevo chiedere proprio il ripensamento completo dei parametri che avevamo prima, che niente è indiscutibile, no? Tutto se l'uomo se vuole può sempre cercare di trovare delle correzioni a riguardo. E secondo, proprio sull'economia civile. Io ritengo invece che sia molto importante che ritorniamo a fare l'80% delle cose in presenza e il 20% online. Io inverto il discorso perché secondo me la realizzazione proprio anche di un'economia civile ha a che fare con il rapporto proprio umano, la presenza umana. mi sono reso conto sarà che sono giovane a 25 anni, però mi sono reso conto soprattutto che tra i giovani proprio la mancanza proprio di stare insieme, dello stare, del socializzare, è massacrante come cosa. Cioè, io credo che non è che comunichiamo solo con la voce, noi comunichiamo anche col corpo anche quando non ce ne rendiamo conto. E secondo me è proprio fondamentale invece che si ritorni a fare l'80% di cose in presenza. Io francamente ho notato che stare a casa ho quasi meno tempo di prima, anzi, che più tempo, proprio perché non si possono fare tutta una serie di cose. Se dovessi decidere tra andare a Roma e fare tre ore di treno o trovarmi in modalità differita, io dico facciamo il treno che è dieci volte meglio. Secondo me magari è più difficile e più complesso, però la qualità è più alta. Ecco, secondo me, anche perché questa cosa qua ci impigrisce un po' troppo. Grazie Marco. Scusami, a due, a due, a due. Bene, no, grazie Marco, ottime domande. Allora, due risposte. Vado? Ah no, le raccoglievamo. Sì, facciamo tre per volta così diciamo che siamo più veloci. Prego Massimo. Buongiorno professore, ho raccolto quattro spunti, quattro domande brevi. La prima mi pare di aver capito che l'economia civile punta molto sulla cooperazione e in un certo senso superamento del conflitto sociale. Ecco, mi si è accesa una lampadina perché lei tra qualche giorno incontrerà il ministro Orlando glielo spieghi bene questa cosa. Seconda considerazione, non crede che in questo periodo il ruolo dell'economia civile si sia ulteriormente complicato perché è vero che la società sente di dover condividere però anche è vero che soprattutto in questa emergenza si sono scatenati dei demoni che sono quelli del verticismo cioè io prendo le decisioni io, rapide e io del tecnicismo io sono l'esperto per cui piuttosto che condividere e discutere presso su di te che decidi e dell'individualismo cioè si salvi chi può. nel diciamo così in questo contesto di emergenza non rischia di essere danneggiata l'economia civile perché tutto sommato le decisioni di vertice tecniche e individuali sono le più gettonate in questo momento e l'ultima considerazione è anche quella di chi mi ha preceduto io vorrei ribaltare il paradigma perché la presenza crea relazione e crea esperienza non crede che su questo si debba riflettere di più grazie grazie massimo prego marica grazie veramente sì più che altro una riflessione a metà tra l'ottimismo che mi sembra lei professore abbia come dire rilasciato in grandi in grande abbondanza ma anche un po' di pessimismo la prima questione è questa una lettura a che cosa ci ha messo di fronte sostanzialmente che è sull'ultima parte di quello che le diceva della società che è il grande scontro tra libertà individuale e presenza di beni collettivi o di beni comuni abbiamo scoperto che forse la salute è un bene comune è un bene collettivo eh e però si fa fatica io sono nella provincia milanese l'individualismo è alto qui non si vede l'ora che si come dire riapra tutto e si produca 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 motivo per cui peraltro a Bergamo ci sono stati disastri eh si va a lavorare anche con la febbre perché bisogna produrre davanti l'individuo dietro il bene collettivo che era il bene della salute ci ha messo un allarme però come dire la natura umana eh negli ultimi trent'anni è retrocessa da questo punto di vista io come dire ho sempre in mente la Thatcher non esiste più la società esistono gli individui al massimo le famiglie ma al massimo le famiglie perché poi le famiglie si disfano e questa è una come dire è una prima può essere sicuramente positivo perché quanto meno ci mette di fronte ma fa scaturire il secondo problema che è il problema fortissimo delle disuguaglianze io voto col portafoglio personalmente ma sono in una condizione che mi permette di votare col portafoglio qualcuno non può votare col portafoglio perché non ha il portafoglio cioè è in una condizione drammatica di non poter scegliere di non potere veramente scegliere allora come possiamo permettere a queste persone di avere una scelta di avere una scelta perché altrimenti come dire nessun potere di acquisto e di scelta consapevole all'interno di tutto questo terza questione le relazioni sociali la scuola allora io parto dalla scuola perché innanzitutto perché è la prospettiva futura la tematica della relazione è quella che permette la generatività online non faccio figli cioè nel senso fisicamente non li faccio non possiamo ancora farli è una battuta però la scuola ha sofferto moltissimo e non riesco non riesco veramente a vedere in quantomeno in questo paese una prospettiva degna anche rispetto a quello che dovrebbe essere next generation questo è tutto il lato pessimista arrivo a quello ottimista velocemente sì devo smettere va bene però quello più carino dammi solo una battuta vai soltanto una ed è questa mentre lei parlava mi venivano in mente l'antropologia del dono il codice di Camaldoli sulla funzione sociale dell'impresa e la generatività che era già lì nel 43 la terza è questa la butto come se volete provocazione il grande anno sabbatico nel levitico ogni sette anni rimettiamo i debiti tra l'altro il grande anno sabbatico anche da un punto di vista ecologico ha un forte senso parentesi riparto da riparto da appunto da Mari che poi vado in su che almeno vi ricordate meglio le ultime cose sul debito forse andate a vedere io ho scritto due tre cose su Avvenire l'ho lanciato a marzo una campagna dell'azione del debito pubblico post-covid ho scritto sul sole 24 ore abbiamo fatto un appello di più di cento economisti di tutti i paesi di vari paesi europei e ieri il sole 24 ore è arrivato alle nostre conclusioni cioè ha spiegato che di fatto poi c'è tutto un problema tecnico di fatto le banche centrali oggi detengono molto importante del debito degli stati e di fatto questo debito è come se l'hanno cancellato perché è un debito che loro si impegnano sempre a rifinanziare trasferendo a noi gli interessi quindi è un debito che non esiste allora quello che noi abbiamo chiesto da mesi è prendiamo coscienza del fatto che il mondo è cambiato e che di fronte a un fatto eccezionale ci vuole una risposta eccezionale come quella appunto biblica e quindi andiamo più forza in questa direzione e io vi dico che questa è la direzione inevitabilmente si andrà in questa direzione cioè le banche centrali si giapponesizzeranno il Giappone è il caso massimo di questo quindi andremo sempre più verso quel modello e vedrete che avevamo avuto ragione qualche mese fa quando l'abbiamo detto sul fatto delle relazioni io colpa mia perché non ve l'ho non ve l'ho detto chiaramente io non parlavo della scuola cioè una situazione parte cioè innanzitutto dobbiamo fare un ragionamento caso per caso un contro sono gli incontri degli esperti internazionali che vi assicuro che se noi dovessimo mettere le agende per vederci tra l'altro tristi andare a vivere negli aeroporti andare cioè e noi noi ne faremo uno invece che dieci diverso è la vita degli studenti che hanno bisogno di socializzare e fare la scuola una perdita irrecuperabile del covid questa veramente irrecuperabile lo dico avendo una figlia di sedici anni è di sedici anni di mia figlia quella non la recuperi più non c'è basta diciassette ne avrà diciotto quella è persa quindi ovviamente insomma stanno cercando di fare il possibile quindi assolutamente io non parlavo della scuola parlo del parlo del del diciamo del lavoro professionale i consigli di amministrazione ma che bisogno c'è insomma non è che c'è tutta questa voglio dire li possiamo fare pure a distanza e intanto io vi dico che la mia è aumentata di tre volte cioè io riesco a fare il triplo delle cose che facciamo è molto soggettivo dipende dal tipo di lavoro che facciamo certi lavori richiedono l'incontro la presenza non è che uno può fare il medico a distanza ok quindi questo è un po' più generale per quanto riguarda il tema del prezzo nel voto col portafoglio questa è un'antica question si risolve in tanti modi primo abbiamo detto lo Stato deve votare col portafoglio quindi due acquisti su dieci li abbiamo risolti di mancanza di cassa secondo se tutti quelli che possono votano il mondo è cambiato tranquillamente e chiaramente noi votiamo col portafoglio proprio per migliorare la situazione di chi non se lo può permettere questo è il fine lo stesso modo per cui raccogliamo fondi per la lotta alla povertà o facciamo donazioni lo fa chi può permetterselo per aiutare chi non può ma se tutti quelli che possono lo fanno il cambiamento politico sarà e sarebbe enorme e sul fatto della del allora il pessimismo l'ottimismo è molto certo da quello che vediamo eccetera io dico che l'individualismo è punizione a se stesso qualcuno dice la virtù è punizione a se stesso cioè chi vive chi non conosce l'arte delle relazioni si sta dando la zappa sui piedi vuol dire che non sa fare uno più un uguale a tre vuol dire che vive di conflitti vuol dire che non è in grado di mettere in moto quella capacità generativa che c'è quando crea i squadre e quindi benissimo ognuno sceglie nella vita cosa vuole fare l'importante è renderlo diciamo avvertirlo di questo ripeto e la cosa tragica è che la nostra società non insegna più queste cose ripeto questa è una società che parla solo del know-how le tecniche le metodologie ok le altre due materie non si insegnano quindi poi faccio presente che l'attività economica è un'attività relazionale uno magari fa l'artigiano l'impresa individuale ma qualunque tipo di attività economica vuol dire gestire relazioni relazioni con i lavoratori relazioni tra imprese e se tu sei bravo a farlo crei dei giganti sta per uscire il rapporto simbola che è il rapporto sulle imprese coesive cioè proprio siamo andati a misurare quali sono le imprese coesive imprese coesive sono quelle che sanno creare relazioni di qualità tra lavoratori tra aziende e con gli stakeholder e le imprese coesive vanno meglio funzionano meglio quindi questo per quanto riguarda poi Massimo mi diceva del verticismo tecnicismo individualismo sì certo che c'è questo qui c'è un pendolo attenzione perché noi siamo passati ricordate non ci dimentichiamo la nostra storia recente siamo passati dalla rivoluzione d'ottobre contro gli esperti che diciamo un po' era la diciamo l'ideologia primaria 5 stelle no? dice sì l'esperto sarà pure bravo però non fa il nostro interesse quindi gli esperti non li vogliamo quindi il popolo ha il potere poi è arrivata la pandemia ci siamo accolti che forse gli esperti e adesso all'improvviso ci siamo consegnati nelle mani degli esperti cioè vedete che pendolo impazzito chiaramente bisogna trovare una via di mezzo quello che noi proponiamo e torno anche a quello di Cia Ludovica è un percorso partecipato cos'è l'indice che abbiamo creato l'indice di Next l'indice di Next mette assieme gli esperti che però non si chiudono in una stanza a fare i loro indicatori le imprese e gli stakeholder cioè il segreto sta sempre lì nel costruire dei processi partecipati dove ognuno ognuno porta il suo perché l'esperto ha un valore ci mancherebbe quindi questo è un'altra cosa sul concetto di benessere sul concetto di benessere io credo che la cosa peggiore che voi potete fare a un ragazzo o a uno studente è dirgli però diciamo tu sarai felice se guadagnerai di più cioè è il modo peggiore di concepire il benessere che non vuol dire che uno non debba guadagnare ma il benessere il benessere ma ce lo dicono i dati io lavoro da anni sui dati della felicità mondiali di milioni di persone le persone sono felici se hanno una vita di relazioni se hanno ovviamente una stabilità economica se hanno una vita di relazioni di qualità e se la loro vita è generativa è ricca di senso questa è la felicità quindi questa idea che il benessere da linearmente dalla crescita della ricchezza è una sciocchezza pazzesca e da mille altre cose e quindi noi vabbè ma così stiamo parlando adesso torniamo a Easterlin voglio dire è un dibattito che va avanti da decine di anni ma è un dibattito superato noi abbiamo il BES io ieri ho presentato la regione Lazio stiamo facendo il percorso per l'azienda l'agenda dello sviluppo sostenibile della regione Lazio e slide lo trovate ed è un percorso dove la regione Lazio si misura su ognuno degli indicatori dei goal e vede che passi indietro quindi diseguaglianze per esempio il Lazio abbiamo visto che uno dei punti deboli è istruzione abbiamo una quota troppo alta di abbandono dello studio e una quota troppo bassa di laureati giovani cioè siamo oltre siamo oltre e noi adesso stiamo dicendo facciamo un passo in più il passo in più è il tema della generatività ora entrato in queste in queste logiche ok e forse mi sono dimenticato qualche cosa ma mi pare più o meno ho detto ho detto tutto grazie professore dunque passiamo al secondo giro partire da Vincenzo allora buongiorno professore mi chiamo Vincenzo lavoro all'università cattolica mi occupo diciamo di big data tendenzialmente poi anche insegno eccetera allora la mia la prima domanda è relativa al cosiddetto voto con il portafoglio cioè nel senso allora io non sono sono non mi piace il capitalismo e in generale cioè spero cioè spero che ci sia sempre un'alternativa però diciamo che all'origine nel nell'ottocefi nel settecento fra un'economia napoletana e un'economia diciamo inglese scozzese l'economia civile ha perso perché è stato eliminato il concetto di relazione dall'economia e è stato introdotto in economia solamente il concetto di cosa ecco quindi la mia ecco la mia domanda innanzitutto un qualcosa che diciamo ha perso sin dall'inizio questa è la prima domanda a proposito poi del voto con il portafoglio per quello per quello che ci ha detto lei ovviamente io non ho una non conosco perfettamente tutti i suoi testi ma non è che è una economia solamente dal lato della domanda cioè nel senso che cioè se io faccio l'esempio della pandemia cioè se io guardo le mascherine ad un certo all'inizio non c'erano le mascherine quindi se io non ho il lato della produzione quindi se non ho diciamo se mi manca la produzione come faccio a desertare il voto con portafoglio cioè come faccio ad andare a consumare qualcos'altro se qualcuno dal lato dell'offerta non mi fa la produzione poi per quanto riguarda il secondo il vero voto con il portafoglio sarebbe quello di dire come diciamo investitore compero magari fondi che ne so di banca etica ma o non investo i fondi diciamo tipo quelli ecco black rock o fondi di questo tipo perché sono fondi dove c'è una concentrazione di ricchezza cioè nel discorso che mi ha fatto lei se lei mi dice che l'herry fink grazie se vuole le do anche il numero di cellulare un grande stratega di comunicazione identifica americano identifica un nuovo messaggio per il fondo di investimento ovviamente lei fa un discorso di chi sta concentrando più ricchezza e quindi mi chiedo il discorso sulla disuguaglianza dell'economia civile così come da lei proposto in qualche modo possa avere un significato non è meglio forse partire dal da un punto di vista tecnico dagli analisi dei tassi di Gini ecco adesso qui entro nel tecnico magari dei vari paesi o addirittura delle varie province in merito lo smart working ho sentito mi scusi una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra una cosa velocissima allora lo smart working nasce come work balance cioè non è un sistema di lavoro adatto per una pandemia e tra l'altro quando noi in questo momento stiamo facendo una conferenza stiamo usando uno schermo quindi stiamo facendo stiamo usando fra virgolette la televisione mentre quando c'è un insegnamento quando c'è una relazione di persona non c'è un mezzo di comunicazione di mezzo e il 90% della comunicazione fra due persone è comunicazione non verbale in più vado a vedere mi scusi i dati di aumento dei consumi degli antidolorifi nell'ultimo anno più 123% cioè la gente a stare a casa a fare lo smart working cioè ha dolori ha problemi posturali eccetera guardi gli investimenti in pubblicità di questi in questi settori ecco quindi mi scusi se sono un po' critico ma comunque ecco mi chiedevo questi fondamenti ecco grazie Vincenzo dite che vanno sempre bene prego Andrea grazie sì dunque io devo dire che nelle slide che il professore che il professor Becchetti ha condiviso con noi ho riconosciuto una serie di loghi di associazioni sindacati di parte diciamo di quell'economia civile che è stata ed è anche parte della mia vita ho visto i loghi di lega ambiente delle ACRI di lega cop della CGL dell'ARCI quindi insomma mi parrebbe di poter dire che un po' delle questioni che il professore ci ha socializzato fanno parte non soltanto credo dell'essico che ho conosciuto in questi anni ma proprio anche della mia vita io credo che l'economia civile abbia conquistato in questi anni fette considerevoli di mercato però rimane ancora un pochino ancillare rispetto all'economia diciamo che si basa sui sui pilastri e sui diciamo sui presupposti tradizionali ma quello che mi ha più colpito nella sua esposizione è una certa enfasi una certa diciamo concentrazione sul concetto di felicità mi è già capitato di affrontare questa questione anche proprio all'interno del nostro corso di formazione e in relazione sempre alle questioni che sono oggetto di dibattito di questa mattina ed è su questo che io le vorrei fare una domanda perché mi pare abbastanza diciamo diversa la sua prospettiva se se ci rapportiamo a quelli che sono i presupposti per esempio fondativi nella nostra nazione dell'Italia e cioè mi riferisco in particolare al dettato costituzionale cioè l'Italia repubblicana si fonda sul lavoro non si fonda sul concetto di felicità che peraltro invece è un concetto fondativo invece nella società americana lì sì veramente gli americani hanno posto a fondamento della loro del loro modello di società questo concetto diciamo questo sentimento più che concetto che è comunque anche a che vedere con determinazioni filosofiche non mi pare però che gli americani a quanto abbiamo a vedere insomma siano più felici di altri popoli ma io non voglio però entrare nella questione nella dicotomia diciamo tra la felicità del popolo americano o la felicità in generale dei popoli io vorrei entrare per quello che posso ancora un pochino di più dentro a questo che è un sentimento a mio parere ma è un sentimento di natura transitoria io non credo che si possa essere felici per sempre se è felici per un breve periodo se che ne so io ci si laurea si sarà felici per una settimana forse per un mese in più diciamo determinati ma poi anche questo sentimento in qualche modo si affievolisce mi domando se non sarebbe più diciamo interessante per proprio in una nazione come quella italiana che ha come elemento fondativo il lavoro e non la felicità magari così virare verso sentimenti un po' meno forse un po' meno globali e virare verso la serenità o una certa contentezza forse anche ad una forma di atarassia e questa è diciamo così la mia la mia prima domanda la seconda sono passati quattro mesi concludo veramente sul concetto di generatività versus diciamo così un certo carattere che a mio parere è distintivo e insito nel DNA degli italiani che forse scambiano di fare squadra con un certo tipo di familismo quando non questo modello degrada verso la clientela perché questo ha molto a che vedere con gli stimoli per alzarsi dal divano perché se le carriere diciamo così e concludo veramente nel pubblico ma anche nel privato sono molto costruite non hanno molto a che vedere spesso con criteri di meritocrazia o di qualità individuali ma più spesso con quelle cose guicciardiniane ma poi dopo diciamo anche gli stimoli appunto per alzarsi dal divano calano di molto quindi queste sono le mie domande che le pongo professor Becchetti grazie prego Elia grazie 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 Luca grazie anche Lodovica per la bella introduzione giusto mi piace ricordare insieme al nostro Antonio Genovesi anche il tema della mutua assistenza che si coniuga bene con l'abbandonata fraternità di cui parlavamo vengo molto sinteticamente alla domanda sul a un certo punto tra le slide del professor Becchetti che ringrazio anche ha fatto vedere la mappa dell'economia la mappa sulla nostra penisola dell'economia civile dell'economia generativa e mi ha molto colpito anche se non è una una sorpresa il fatto che tutte le regioni meridionali sono in blu allora io chiedevo al professore ma come si può aiutare allora il meridione il nostro meridione a svilupparsi quindi a migliorare anche nel nel campo dell'economia generativa sia nel breve che nel lungo periodo grazie grazie Elia prego professore credo che professor Becchetti allora al solito parto parto dall'ultimo e risalgo quindi Elia senz'altro allora il tema del sud è un tema lungo però fondamentalmente secondo me c'è due tre cose fondamentali uno lavorare anche sulla carenza delle infrastrutture ferroviarie e speriamo che la diciamo speriamo che il next generation che pare abbia messo a tema a questo punto lo risolva nel sud non esiste alta velocità sappiamo qual è la condizione delle ferrovie secondo c'è una carenza forte di capitale sociale cioè nel sud c'è una grande qualità di vita di relazione noi c'è un indicatore che non abbiamo usato lì ma che sarebbe bello usare dice con chi pranzi la domenica pomeriggio è un indicatore di qualità di vita di relazione però questa qualità della vita familiare diventa povertà quando il terzo quando la relazione è con i terzi che non sono parte della tua famiglia famoso familismo amorale no? e quindi noi viviamo questo paradosso di un sud appunto ricco di relazioni familiari ma povero di capitale un nord dove spesso potrebbe succedere il contrario quindi questo è un altro problema poi l'altro problema ovviamente lo sappiamo tutti è quello della criminalità ma che anche questo è un problema che si combatte col capitale sociale ovvero la criminalità voi pensate tanto parliamo sempre di virus e di anticorpi in questo periodo è un virus e più gli organismi sono debilitati meno gli organismi hanno anticorpi meno gli organismi hanno cittadinanza attiva capacità di reagire e più questi virus prendono il campo quindi la risposta è proprio quella è una risposta civile ecco perché noi vendiamo i prodotti di Libera perché vendiamo i prodotti nelle terre confiscate dalla mafia perché vendiamo i prodotti perché la battaglia per la legalità si fa costruendo pezzi di società sana questo ha tre punti e poi insomma ne potremmo mettere in campo anche altri e quanto al corso di Andrea allora sul tema della felicità purtroppo non abbiamo avuto tempo di spiegare tutte queste cose non parliamo di felicità perché quando parliamo di felicità l'ambiguità c'è come stati d'animo transitori quelli che gli americani chiamano positive and negative affect non è quella la felicità infatti io molto spesso ho parlato di soddisfazione di vita e ho parlato di senso di vita che sono due cose diverse senso chiamiamo eudaimonic well being il benessere eudaimonico io posso essere un magistrato antimafia di punta quindi penso che la mia vita abbia una grandissimo senso per quello che sto facendo ma soffro sto combattendo una battaglia quindi la ricchezza di senso di vita e la soddisfazione di senso di vita non dipende da uno stato d'animo transitorio ma dipende da una valutazione della vita che tu hai posto tanto quella vita che tu stai conducendo ha significato e ha un impatto quindi è una cosa completamente diversa molto più robusta vorrei dire e abbiamo perché secondo me è importante fondarlo su quello perché perché è quello a cui l'uomo l'uomo aspira tra l'altro giustamente è chiaro che il lavoro è centrale nella nostra società ma se il lavoro fosse l'unica cartina di tornasole unificante del paese allora adesso dico una battuta una butade taglieremo i giovani cioè noi dobbiamo avere un'idea di società che vale per chi è in età di lavoro per chi l'età di lavoro l'ha superata il tema della longevità attiva stavamo dicendo prima che è il tipico tema di ricchezza di senso del vivere quindi i nostri eroi sono gli atleti paralimpici per esempio perché sono proprio le persone che partendo da quelli che sono i vincoli della loro vita cercano di fare il meglio per superarli dice l'economia civile è ancillare ma io io mi preoccupo di seminare io dico che il primo tempo sicuramente nel settecento l'abbiamo perso contro l'economia anglosassone io sono sicuro che il secondo tempo lo vinciamo noi non c'è dubbio perché l'umanità allora aveva aveva un'emergenza che era quella di combattere la povertà di aumentare la produzione fisica vi ricordate la prima slide che vi ho fatto vedere e quel lavoro l'economia anglosassone l'ha fatto egregiamente la rivoluzione industriale oggi abbiamo altri problemi oggi il problema è che in 40 anni dobbiamo azzerare le emissioni di anidride carbonica capite che l'obiettivo è completamente diverso da quello del novecento e l'obiettivo fa quell'obiettivo non si può realizzare se non con un'altra visione la visione è completamente diversa next generation EU l'obiettivo non è produrre il più possibile l'obiettivo è contrario la sostenibilità ambientale e la digitalità chiaramente siamo in un'altra fase storica dove l'unica cultura che può produrre risultato è secondo me è questa qua o comunque quella della sostenibilità per quanto riguarda lo smart work allora una cosa molto importante l'ha detta anche Liliana che l'ha scritta nella chat lei ha detto giustamente sapete chi è più contrario allo smart work le donne perché in Italia purtroppo il lavoro di cura domestico è molto sbilanciato sulle donne quindi lo smart work diventa per le donne un aumento di carico cioè magari a casa il marito che ti chiede di fare il pranzo la cena e tutto quanto laddove ovviamente c'è questa ripartizione di ruoli allora è un problema ma è un problema della nostra società questo quindi di ripartizione di lavoro di lavori domestici per quanto riguarda la diciamo la qualità della della io ripeto dicevi Vincenzo degli antidolorifici io penso che gli antidolorifici sono la risposta a un male molto più profondo di povertà di senso se ci pensate dipende da quello che tu fai cioè il monaco benedettino comunque il monaco di clausura è un un antesignano dello smart work cioè vive vive in un luogo limitato e ristretto ma ha una visione generativa del mondo e della sua attività quindi il punto è quello chiaramente cioè la felicità la soddisfazione la non soddisfazione della vita è chiaro che noi non stiamo parlando quando voi dovete pensare allo smart work non dovete pensare allo smart work della pandemia cioè la società del futuro speriamo senza la pandemia non sarà quella del lockdown ma sarà quella dove noi avremo la possibilità di combinare due cose cioè di combinare il lavoro in presenza con il lavoro a distanza avendo scoperto sul lavoro a distanza non immaginavamo perché le abbiamo scoperte ovviamente le abbiamo approfondite in questo periodo quindi chiaramente stiamo parlando di una cosa completamente diversa quindi lo stress del lockdown devi stare per forza a casa non ci sarà nel futuro perché comunque avremo la scelta di fare l'uno o l'altro e vedrete che vi dico una battuta l'altro giorno facevamo appunto la riunione del G20 con i tedeschi e a un certo punto il rappresentante tedesco ci dovete dare molte più linee per il G20 perché cioè sì perché un sacco di noi non vogliono venire in Italia se non vogliono vedere da casa quindi diciamo metà della letterazione tedesca il tema vedete come ci stiamo riposizionando chiaramente ripeto un conto sono le scuole e un conto sono gli incontri quindi quanto al discorso banca etica Larry Finke ma è ovvio noi perché io ho fatto vedere la slide della perché di fronte a una cosa di cui noi siamo orgogliosi che è il successo del contagio della nostra idea poi c'è il washing è quello che vi pare noi abbiamo un solo modo per combattere questa che noi siamo stati pionieri e che noi siamo quelli che al 100% facciamo quella roba quindi dire adesso tutti vogliono il prodotto ma l'originale siamo noi quelli che abbiamo lanciato l'idea quelli che ti danno la garanzia della qualità di quella roba lì siamo noi questa è diciamo è la partita che stiamo giocando e devo dire che sta succedendo questo cioè noi in un certo senso godiamo anche del fatto che tutti parlino di questa roba e poi diciamo semplicemente se vuoi l'originale 100% eccetera ci siamo noi sul fatto della domanda e dell'offerta già adesso il voto col portafoglio può scegliere tra una qualità dell'offerta eccezionale ripeto aziende che fanno l'inserimento lavoro cioè in molti casi si tratta di andare a scoprire delle buone pratiche che già ci sono nel paese e anche stimolare perché la frase di Bill Gates è molto importante io non avevo trovato prima di questa questa sfumatura del voto col portafoglio cioè lui dice che il voto col portafoglio stimola l'innovazione delle aziende quello vuol dire che è una domanda che stimola anche il cambiamento dell'offerta quindi devo dire la verità io non l'avevo pensata in questo modo grazie professor andiamo quindi con l'ultimo giro di interventi a partire da Paolo se non ricordo male grazie Luca grazie professor Becchetti e grazie Ludovica io sono sociologo del diritto anche avvocato con un po' di formazione ampliata anche ad alcune questioni dell'economia quindi la mia domanda va a colpire un punto che anche nelle riflessioni poi svolte con le domande mi è sembrato non coperto e cioè che nella premessa dell'economia civile ci sono delle questioni che attengono certamente al tema del senso al tema della relazione e al fatto di codificare di portare a compimento negli assetti delle relazioni sociali alcuni elementi che si trasformano anche in profili efficienti dell'economia ora il punto è che noi abbiamo di me pare che con la pandemia e anche con altri rilievi che sono emersi d'aspetto ecologico e quant'altro si sia dimenticato che la premessa argomento caro peraltro Benedetto XVI la premessa dello sviluppo di un'economia integrale sia legato al fatto che alcune premesse della cultura generale o degli elementi della conoscenza che attengono al senso economico dell'agire possano trovare una risposta generale convincente Benedetto XVI rispondeva chiaramente con qualcosa che doveva sconfiggere il relativismo oggi il tema del postmoderno cioè di una condizione generale per il quale l'individualizzazione e il senso della frammentazione anche delle conoscenze anche di ciò che dovrebbe performare l'economia dentro questi strumenti di cui parliamo anche oggi mi sembra che non abbia trovato ancora una soluzione né modellistica né di premessa culturale guardi tra l'altro professore non è un caso oggi che abbia avuto la presentazione da parte di una filosofa perché l'obiettivo era proprio quello di creare uno stimolo a partire da un tema culturale e in questo credo che Rodovica sia stata molto brava a portarle avanti questo tipo di indicazione ma per venire alla mia domanda penso che ci sia una riflessione che sia manchevole in questo momento nel tema dell'economia civile per cui prima delle relazioni e prima di un'economia delle relazioni dovrebbe trovarsi qualcosa che possa dare una ragione fondante a un'economia della conoscenza e a un'economia dell'informazione perché la destrutturazione contemporanea porta a non comunicare a non fare comunicare le persone in maniera coerente a rendere svilenti anche gli strumenti che hanno performato le relazioni su un piano magari virtuale e a non trovare magari continuità quando invece sappiamo che nella finanza per tanti anni prendo ad esempio un modello che però non mi pare sia andato molto bene che è quello di Black Merton e Sholes per tanti anni si sia ragionato invece su parametri che hanno permesso alla finanza di imperare di trovare delle linee guida di creare anche un'oligarchia della finanza questa oligarchia tra virgolette che è andata bene nell'ambito della finanza fino a un certo punto mai nessuno ha pensato di tradurla dal punto di vista invece della società generale e nel pensare che le persone devono poter comunicare in maniera efficiente per creare un'economia efficiente e avere quindi delle informazioni coerenti una conoscenza diffusa che permetta di sensibilizzare al tema della realizzazione personale e quindi costruire in quel senso in maniera derivata la relazione e non viceversa quindi per me è impossibile che dalla relazione si costruisca in sé solo grazie alla relazione un argomento un contenuto convincente comunitario sono molto agostiniano in questo ritengo invece che sia necessario costruire una concordia partendo da elementi diciamo più fondanti e quindi chiedo da questo punto di vista se nessuno stia lavorando a questo questo mi è tratto mi pare essere la sensibilità che percepisco quando discuto con qualche persona presente nella Santa Sede e quindi volevo chiedere qual è la sua percezione e se sta trovando delle collaborazioni in questo senso perché è un argomento di cui sono particolarmente padrone ed interessato grazie grazie Paolo prego Antonio Sì molto semplice per educare il cittadino ad essere cittadino pensavo e pongo la domanda una scuola aperta dalle 8 alle 10 di sera aperta al territorio aperta ai genitori aperta ai nonni o ai capelli bianchi può essere uno strumento di economia civile grazie grazie Antonio prego Lorenzo sì delle molte cose che ci ha detto il professore credo che il punto fondamentale sia quello che è impossibile il cambiamento economico sociale se non c'è una consapevolezza anche sotto il profilo politico ora qui la cosa si salda da due punti di vista da un lato ci deve essere un'iniziativa chiamiamola dal basso anche se poi non è mai veramente un'iniziativa dal basso diciamo comunque di persone che sono in questo momento al di fuori delle istituzioni perché operano nella realtà sociale nella realtà sindacale se si vuole nella realtà degli studi accademica eccetera eccetera e comunque sono fatte consapevoli di questo processo comune e devono anche avere un aggancio appunto in una dimensione sociale più vasta nel senso che comunque corrispondono agli interessi in corpo sociale dall'altro lato ci vuole un'iniziativa dal punto di vista istituzionale cioè alla fine un interlocutore forte il progetto potenzialmente deve essere rivolto a tutti ben inteso però alla fine sappiamo che esistono degli interlocutori forti privilegiati rispetto a questo o talvolta questi interlocutori bisogna anche costruirseli no come ad un certo punto era l'insegnamento costante di Giovanni Bianchi al Partito Popolare ai tempi di Sturzo nasce come precipitato di una realtà sociale che si era costruita nel corso del quarantennio precedente ma non aveva mai potuto diventare un motivo politico un partito politico per i motivi storici che ben sappiamo allora sotto questo profilo la domanda è oppure trovarlo ripeto fra i soggetti politici già esistenti la domanda è a suo giudizio queste due come si può dire queste due forme queste due ganasce della realizzazione di questa interlocuzione politica cioè l'iniziativa dal basso e la risposta di carattere istituzionale sono già in essere oppure possono svilupparsi perché è una delle cose che si dice di quello che è accaduto con la crisi del covid pensando allo scenario italiano con la crisi del covid anche con la nascita di questo nuovo governo con una maggioranza così anomala una composizione così anomala è che nulla sarà come prima e che ci potranno essere delle delle potranno esserci dei forti cambiamenti cioè non perché questo sia fine a se stesso ma perché comunque deve essere finalizzato a quel cambiamento anche nella concezione economica che è così importante anche perché riprendendo la battuta di Sequeri anche noi come credenti non vogliamo che la che la fraternità rimanga prigioniera della sagrestia grazie 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 professore abbiamo ancora un intervento se se lo mangiiamo così finiamo il giro prego Stefano grazie mille io mi chiamo Stefano Guffanti mi occupo di programmazione e controllo professore mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto per la lezione di oggi vado velocissimo alla domanda nel febbraio del 2015 venne Aldossetti Luigino Bruni ecco io le ripropongo una riflessione che è emersa allora in tempi in cui il covid era lontano premesso che io condivido molte delle cose che le ha detto ma al di là di questo credo che come è avvenuto con la globalizzazione l'avvento di una nuova economia basata sulla resilienza e sulla sostenibilità e non sull'efficienza slegata da un vincolo temporale avverrà perché è legata a processi storici che una volta messi in moto non si possono fermare ma solo controllare nelle modalità con cui si manifestano gestendo appunto i loro effetti la riflessione è questa la domanda è questa noi abbiamo assistito in questi anni parlo del periodo pre-covid al fatto che a fronte di una massa crescente di disoccupati di persone inattive aumentavano fra gli occupati fenomeni legati allo stress lavorativo straordinari non pagati per il fenomeno diffuso di trattamenti economici omnicomprensivi mobbing utilizzo delle tecnologie informatiche che obbligano i lavoratori a essere connessi anche durante le festività io ho lavorato in società di consulenza in cui il discorso sostanzialmente è questo tu fai un bel lavoro quindi non mi dai più le otto ore canoniche o le dieci ore ma mi dai il tuo tempo e ti rendi sempre reperibile il professor Bruni parlava cito di manager imbevuti di falsi valori che sacrificano la loro vita a culture costruite da multinazionali e società di consulenza simili a divinità pagane manager che vengono bruciati e sostituiti come ingranaggi di una macchina infernale e per giustificare il dislivello delle loro retribuzioni aumentato a dismisura negli anni penso a una figura come Marchionne vivono poi una vita che veramente come diceva lei non è degna di essere vissuta per il semplice fatto di guadagnare molto ecco non pensa che è una delle possibili diciamo degenerazioni di questi processi che lei ha descritto di questo tipo per cui ci si rivolge sempre più a chi lavora facendolo lavorare di più e si taglia sempre più fuori perché è più facile chi è inoccupato chi è disoccupato chi fa fatica a prendere grazie grazie professore prego allora altro tema importante ovviamente con con diciamo questa nuova che ripeto affiancherà anche il lavoro in presenza è necessario riscrivere un nuovo capitolo di diritti sindacali ma questo è ovvio perché stiamo parlando di un lavoro che si svolge in modo diverso e quindi questa riscrittura dei diritti sindacali dovrà includere per esempio i rapporti tra diciamo tra subordinati e superiori e il diritto di disconnessione eccetera eccetera quindi questo questo non c'è dubbio quindi c'è bisogno di lavorare alla ridiferenza dei rapporti sindacali quanto al modello di azienda il modello di azienda dell'economia civile capovolge completamente questa storia quando io parlo delle aziende per cui noi vogliamo lavorare è un'azienda dove nell'azienda tradizionale il fine è massimizzare il profitto non importa come e quindi la relazione diventa strumento a questo fine le persone sono risorse umane come si dice sono risorse umane e nel nel modello dell'economia civile è contrario nel senso che devi stare in piedi sul mercato il fine dell'azienda è cambiare il mondo il fine dell'azienda è la generosità il fine dell'azienda è anche la qualità della vita delle persone che ci stanno quindi cambia completamente la storia poi ovviamente io ora parlo per il tipo di azienda su cui noi lavoriamo e costruiamo non stiamo parlando di roba che sta nel iverspazio stiamo parlando delle società di cui vendiamo i prodotti stiamo parlando delle aziende che abbiamo creato parlando di persone come non si sente il microfono stiamo parlando di persone come vedo che sta parlando però non si sente non so prego professore dicevo per esempio faccio un'interessante che è Marco Bartoletti che ha un 20% di forza lavoro che proviene da categoria disagio e che ha scoperto attraverso il reinserimento lavoro il valore profondo del quindi potremmo dire che uno dei fini dell'attività di questo imprenditore che è un imprenditore importante che vende diciamo materiale per la moda è quello del reinserimento lavoro quindi questa è la logica altri mi dispiace Stefano stava dicendo delle cose ma non si sentivano quindi non sono riuscito a capire cosa stava dicendo no 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 non ho detto nulla professore ah ok ok non ho detto nulla grazie grazie e poi per quanto riguarda è importante la domanda politica bottom up e top down io direi che il bottom up è molto organizzato abbiamo delle reti di organizzazione della società civile che si sono strutturate bene beh il forum con diseguaglianze e diversità il forum del terzo settore questa rete che abbiamo costruito noi che trovate nelle slide delle cento organizzazioni a Asvis cioè il bottom up è un top down nuovo e diverso beh chiaramente è un problema a cui ragioniamo da tanto tempo io la vedo così uno a livello comunale c'è grandissima libertà e capacità di fare qualunque gruppo di giovani con una buona volontà che prende e fa una lista civica in una città può diventare può vincere le elezioni e leggere il sindaco questo è quello che io vedo ci sono tantissime storie pensate alle liste latina bene comune alle liste veramente ci sono delle possibilità sconfinate perché anche devo dire che il sistema elettorale aiuta quel tipo di sistema elettorale a livello nazionale è molto più complicato quindi è un è un situazione come vedete molto magmatica molto complicata e sinceramente il lavoro che noi dell'economia civile ci proponiamo di fare è quello di contagiare un po' tutti è un po' come diciamo i cristiani nell'impero romano cioè noi non vogliamo non penso sia il caso di diventare bersaglio facendo il partito cattolico almeno adesso ma dobbiamo creare magari possono nascere dei partiti anche con idee dell'economia civile eccetera dobbiamo cercare di portare tutti su quelle idee questo è un po' poi ovviamente sappiamo che alcuni ci saranno più di altri e lo vediamo questo per quanto riguarda la scuola la mia scuola che era una scuola privata la scuola dei gesuiti era una scuola aperta dalla mattina alla sera quindi io quella cosa l'ho vissuta c'era il dopo scuola c'erano le attività pomeridiane ma voi provate a mettere questa roba in una scuola pubblica e chiedete quindi alla persone che lavorano in una scuola pubblica di tenerla aperta tutto il giorno come minimo qualche problema logistico c'è quindi diciamo che il sistema della scuola pubblica non aiuta però certo diciamo ci sono tanti modi per far crescere l'attività c'è tutto il tema dell'educazione civica i ragazzi imparano per esperienza l'apprendere per esperienza è fondamentale per i giovani quindi piste di lavoro per esperienza sono molto molto importanti comunque poi è un tema che magari potremo quanto all'ultima domanda ma io penso che il senso dell'economia civile è molto ambiziosa ce l'ha diciamo l'idea c'è tutto ma non parte da parte da un discorso di uomo fatto a immagine e somiglianza quindi a immagine e somiglianza trinitaria quindi un uomo che è in relazione e un uomo che si realizza attraverso la sua generatività quindi non vedo carenze dal punto di vista struttura generale del pensiero quindi poi il tema dei beni relazionali è uno dei temi che noi affrontiamo chiaramente noi non possiamo declinarlo sempre così perché dal punto di vista sociale e politico per la punto di vista sociale e politico viviamo una società dove dobbiamo mettere assieme le forze di credenti e non credenti quindi per noi credenti quella roba lì ha una sua diciamo se vogliamo tutto può essere io arrivo a questa sintesi che alla fine possiamo anche arrivare è tutto uguale tra credenti e non credenti può essere tutto uguale sull'economia civile meno una cosa il credente pensa che ci sia fonte di contemplazione di energia che alimenta questo percorso e il non credente non ci crede questa è la differenza fondamentale tra il non credente cioè il non credente può arrivare alla stessa conclusione che un modello fatto di relazioni di generatività è il modello valido perché una vita generativa è meglio di una vita non generativa la differenza tra il credente e il non credente è che il credente pensa che ci sia un attingere attraverso la vita dei sacramenti eccetera eccetera di tutto questo da qualcosa che è fuori da noi e il non credente non ci crede e questa è la differenza però si può lavorare insieme si può camminare insieme grazie professore e l'ultima cosa che ha detto ci rimanda senz'altro allo spirito del nostro impegno al servizio del bene comune e anche della formazione alla politica e che diciamo che anche per grazie ai nostri maestri come Giovanni Bianchi l'elemento della spiritualità è centrale fondante senza potremmo fare la stessa cosa ma forse la faremmo in un altro modo verrebbe non lo so non so se sarebbe la stessa cosa forse no almeno per quanto riguarda di più di noi sarebbe molto difficile fare allo stesso modo senza quell'idea che in fondo qualcosa da fuori ci muove anche anche contro la ragione nel senso che diciamo che noi attingiamo ad una fonte che conosciamo insomma molto uno poi ecco non essendo si immagina che dall'altra parte ci sia un qualche un qualche un qualche benzinaio un qualche fonte di alimentazione mi riferivo a questo con ragione partiamo per noi naturalmente grazie veramente tanto spero che abbia avuto sono anche il piacere di assolutamente di queste cose con noi come avrà visto insomma siamo molto dentro anche una una certa visione ci corrisponde ovviamente dico che quando uno è molto importante anche la qualità e la sensibilità e l'attenzione delle persone a cui parli e devo dire che con voi è stato non è la stessa cosa no? Devo dire che con voi è stato eccezionale veramente stimolante anche poi tutta la batteria di domande di cose abbiamo potuto approfondire tantissime cose grazie quindi anche per questo grazie a lei veramente noi torneremo a parlare di economia sabato 10 aprile con Franco Bernabè e invece di uomini e di sofferenze con sabatoio e natoli l'uomo dei dolori sabato 27 marzo quindi la prossima sempre alle 10 alterniamo questi due elementi insomma in una in una forchetta di direzioni e grazie veramente ancora professor Becchetti per il tuo grande contributo che ha dato grazie a Lodovica un po' anche una mente salutare anzi un microfono aperto a tutti un saluto liberi senza schema ma